Conta poco. Diamo inizio alla conferenza di Don Francesco. Don Francesco non ha bisogno di grandi presentazioni, è superiore dell'Istituto Materborni Consili e direttore di un periodico che si chiama Sudalizio che da tantissimi anni è molto diffusamente letto in Italia il cui nome non è scollegato dalle vicende che sentirete narrare oggi a proposito di questo monsignore del quale pochi giorni lo sono ieri o ieri l'altro a seconda delle biografie che si leggono Don Francesco ci dirà ricorreva l'anniversario, il settantesimo anniversario della morte ottantesimo sì, l'anniversario della morte naturalmente io ricordo che tanti anni fa, più di venti, giucchiando un libro sulla questione romana su Monsignor Gasparri, un libro degli anni 70 di nessun valore ma pieno di biografie, pieno di fonti, di notite sulle questioni dei patti lateranensi eccetera e sulla vita di questo Monsignor Gasparri un storico che poi ha avuto un valore di fama passando a volo d'uccello sulla figura di Benigni lo definì il genio malefico di San Pio X ovviamente non diceva San, diceva Pio X fu la prima volta che le sentì parlare e gli ho detto ma chissà com'è simpatico questo Monsignor Benigni dopodiché non ne ho mai più sentito parlare, ne ho mai più visto se non tanti anni dopo quando ho avuto la fortuna di conoscere Don Francesco, Don Ugo e Sodalizium mi sono reso conto che questo Monsignor Benigni era davvero simpatico e poi simpatico ovviamente adottivo qui si parla di cose di importanza ovviamente ben maggiori e ben superiore dopo tanti anni la prima conferenza che mi capita di sentire sull'argomento penso che anche per voi sia una cosa sicuramente non comune e di conseguenza diamo la parola a Don Francesco per voi se ci saranno domande che immagino non mancheranno questo ovviamente alla fine la parola a Don Francesco sul tema sul tema allora cominciamo con una preghiera Pater Nostro di essi in Cieli Santificieto noventù Pater Nostro di essi in Cieli Pater Nostro di essi in Cieli Pater Nostro di essi in Cieli evidentemente quello originale e autentico e nell'occasione in particolar modo celebrata in suffragio appunto di Monsignor Benigni quindi la messa domattina alle 11 in via Pietro della Valle per chi non c'è mai venuto comunque a due passi da Piazza Adriana e di Castello di Castello e di Castello Sant'Aggio ringrazio Pater Nostro di essi in Cieli e spero che qualcuno a partire da oggi prenderà la decisione magari di studiare meglio la sua vita, i suoi scritti, la sua azione, il suo pensiero perché a nostro parere, a mio parere è tuttora di grande attualità quest'anno sono due gli anniversari che riguardano appunto questa questione che cadono nel 2014 il centenario della morte di San Pio X quindi nell'agosto del 1914 e vent'anni dopo quindi il 27 febbraio 1934 entrambi gli avvenimenti qui a Roma gli 80 anni dalla morte di Monsignor Benigni Umberto Benigni due figure quella di San Pio X e quella di Monsignor Benigni strettamente legate furono legate nella vita da un vincolo di affetto di stima reciproca e da una medesima missione quella di combattere per la Chiesa e quindi per il suo capo che è Gesù Cristo e di combattere in particolar modo poi quel nemico che è l'eresia del ventesimo e bisogna dire ormai anche del ventunesimo secolo ovvero sia il modernismo le eresie come tutti gli errori e tutti i mali non si combattono solo con le parole si combattono con le azioni Monsignor Benigni fu uomo di dottrina ma fu anche innanzitutto uomo di azione e gli errori non si combattono solo nella teoria ma anche nella pratica nelle persone che li incarnano per cui non esitò sia San Pio X che Monsignor Benigni non esitarono a colpire le persone che diffondevano questa eresia e che tuttora purtroppo è sempre più diffusa affinché con la speranza appunto che facessero il meno male possibile ma chi era Monsignor Benigni? per appunto Hortensi presentandolo ha detto la prima cosa che ha detto di lui il genio malefico di San Pio X non ho detto chi era l'autore di questo di questo pessimo scritto che era Giovanni Spadolini Spadolini e comunque anche quando Monsignor Benigni era vivo non godeva di miglior fama in quanto nelle loro lettere private e personali che i modernisti ci scambiavano il nominio col quale lo chiamavano era Monsignor Maligni non Benigni perché lo consideravano fonte di tutti i mali e di tutti i guai che essi dovevano subire ora naturalmente quando il nemico ti detesta in questa maniera è buon segno vuol dire che la tua azione contro il nemico è efficace che il nemico ti teme che sa che effettivamente sei un pericolo per lui e di nemici Monsignor Benigni ne ebbe tanti però per procedere con l'ordine cerco di dare prima di tutto per chi lo conosce poco una breve idea di come possiamo dividere la sua vita innanzitutto come fonti per chi desidera quindi le fonti principali sul nostro personaggio bisogna dire che è triste la constatazione che ha tanti anni ormai dalla sua morte le due opere principali per conoscere il pensiero e l'azione di Monsignor Benigni sono scritte in francese da un francese quindi da Emile Pula Emile Pula è tutt'altro che un simpatizzante del cattolicesimo integrale anzi nella sua gioventù partecipò all'avventura dei preti operai ma è uno studioso che ha una qualità rara quella della obiettività è un'altra qualità che è quella della serietà delle fonti ed ha anche un'ammirevole capacità di saper distinguere anche le sfumature nel pensiero delle persone che lui studia ha studiato sia i modernisti sia i nemici dei modernisti quindi i cattolici integrali presentandoli così come erano effettivamente senza confondere casi che possono sembrare anche simili e questo è particolarmente notevole in un autore francese che poi vede in genere gli scrittori francesi sono molto ferrati per quel che riguarda la storia patria ma poco considerano o poco capiscono di quello che riguarda invece la storia delle altre nazioni fossero anche loro vicine come l'Italia invece bisogna dire che Emile Poulin per la verità ha una conoscenza della storia italiana e del movimento cattolico italiano veramente profonda i due testi di riferimento per chi conosce il francese naturalmente per conoscere quindi l'azione e il pensiero di Monsignor Benigni sono stati pubblicati entrambi da Emile Poulin il primo nel 1969 e il secondo nel 1977 quindi il primo si intitola Antegrism e Cattolicism Antegral Integrismo e Cattolicesimo Integrale una ripetizione che non è inutile perché integrismo è spregiativo ed è il termine che ancora oggi in Francia i modernisti e i progressisti utilizzano per insultare come negli anni 70-80 diceva fascista per insultare chi non è della loro idea è un integrista bene e poi Cattolicesimo Integrale invece è il termine corretto quello che essi stessi si davano il che significava integralmente cattolico questo primo libro pubblica con commenti abbondanti senza i quali i testi sarebbero incomprensibili per i più i documenti scoperti durante la prima guerra mondiale in Belgio che erano documenti cifrati personali quindi segreti se così possiamo dire del Sodalizium Pianum di che ha permesso naturalmente pubblicandoli finalmente perché fino a quel momento tutti ne parlavano ma nessuno li aveva letti se non pochissime persone e questi documenti appunto fino a quel momento sconosciuti ai più permettono di conoscere questa associazione questo Sodalizio fondato da Monsignor Benigni se così possiamo dire dal di dentro cioè da documenti interni evidentemente per tanti anni praticamente la fonte principale se non unica di conoscenza ormai da quando furono pubblicati 69 furono quei documenti lì oltre alla pubblicazione della rivista di Monsignor Benigni o meglio della più che rivista era una una agenzia stampa la corrispondenza romana che fu pubblicata sempre a cura da Emile Poulin per le edizioni Feltrinelli e però è praticamente introvabile io mi sono fatto le microfiche e quindi ce li ho in questo modo molto scomodo di leggerli se no su internet si può trovare alcuni dei numeri della corrispondenza romana si trovano in un sito di una biblioteca francese quindi chi li ha fotografati e messi nel web quindi qualcosa si può trovare questa documentazione è veramente interessantissima è uno spaccato per poter capire dall'interno la storia della chiesa e la lotta contro i modernisti durante il pontificato di San Pio X però questi documenti vanno fino allo scioglimento del Soderizio Pianum quindi fino al 1921 essi però non ci danno tutto l'aspetto della questione perché riguardano l'attività di Monsignor Benigni così come giungeva a un settore periferico della sua attività in Belgio perché questi documenti furono sequestrati durante la prima guerra mondiale a un avvocato belga dalle autorità militari tedesche alle quali era stato fatto credere che Monsignor Benigni e questo avvocato belga erano delle spie del nemico e chi le ha fatto credere erano dei preti che quindi mettendo a rischio la vita di questa persona perché una spia in guerra viene fucilata hanno fatto questo colpo gobbo è il caso di dire per impossessarsi dei documenti di Monsignor Benigni e squalificarlo e ci riuscivano perché fu in seguito al sequestro di questi documenti che si giunse allo scioglimento del Sodalizio Piano nel 21 qualche anno dopo dunque un altro testo lascio da parte per un attimo un altro libro di Purao un altro testo che completa il precedente per quel che riguarda i documenti interni del Sodalizio Piano è più recente ed è in italiano si può trovare quindi cercandolo si può trovare perché è opera di Pagano Sergio Pagano che l'archivista dell'archivio segreto Vaticano tutt'ora è in carica un religioso un vandabita un modernista lo posso dire senza offesa perché lui stesso nei suoi studi storici difende i modernisti storici cioè quelli dei tempi di San Pio X e si schiera direi abbastanza apertamente la loro parte però dal suo ruolo di archivista dell'archivio segreto Vaticano Monsignor Pagano ha avuto il merito di andare a cercare il fondo Benigni se possiamo chiamarlo così cioè quella parte dei documenti dell'archivio di Monsignor Benigni che non fu distrutto da Monsignor Benigni stesso il quale fece uno spoglio dei suoi archivi ben due volte distruggendo la maggior parte del suo archivio ma quello che è rimasto una parte di quello che è rimasto fu venduto dal fratello di Monsignor Benigni e fu acquistato dal Vaticano il Vaticano mise la biblioteca e l'archivio di Monsignor Benigni in archivio e lì restò e giacque anche perché non era lecito consultarlo solamente in questi ultimi anni si è stato tolto il segreto come si usa a fare negli archivi non è solo per Monsignor Benigni è stato tolto il segreto per quasi tutto l'archivio e non per gli ultimi anni e il primo e unico che ha avuto la curiosità di metterci in naso e vedere cosa c'era dentro è l'archivista quindi Monsignor Pagano che ha pubblicato quindi due articoli uno che segue l'altro l'inventario di questo fondo è un articolo in cui presenta alcuni alcuni fondi archivistici ritrovati tra le carte di Monsignor Benigni per descrivere la storia del cattolicesimo a Roma e quindi soprattutto la storia del modernismo e dell'antimodernismo naturalmente queste carte già ci fanno vedere che quelle confiscate in Belgio e pubblicate alla Purà che è un volumone enorme e uno dice dice tutto e invece c'è una minima parte quindi quello che si sapeva del Sodinizio un piano si pensava di sapere quasi tutto grazie a queste carte confiscate a questo archivio quasi intero confiscato invece è una minima parte e quello che ha ritrovato Monsignor Pagano ci mostra per esempio purtroppo pubblicato in piccolissima parte e per il resto c'è l'inventario solamente ci mostra molto di più dell'attività di Monsignor Pagano in Italia perché naturalmente qui era il fondo italiano l'altro era il fondo in Belgio dove si tratta soprattutto della Francia della Germania del Belgio e probabilmente per ogni paese ci sarebbe da cercare e si troverebbe altrettanto un altro articolo però più breve riguarda sempre un archivio di Monsignor Benigni l'autrice è Margherita Bettini Prosperi questa volta un altro archivio venduto non più dal fratello ma dal nipote di Monsignor Benigni che a suo tempo si occupò anche lui di giornalismo si chiamava Pietro Mataloni venduto al Ministero degli Esteri italiano e ci si chiede cosa centrava il Ministero degli Esteri il Ministero degli Esteri centrava perché Monsignor Benigni collaborò prima col Ministero degli Esteri e poi col Ministero degli Interni con Pol Pol non Pol Pot cioè la polizia politica di Bocchini se non erro il nome se non sbaglio il nome collaborò come informatore in un servizio di informazioni quindi ripeto prima il Ministero degli Esteri poi con il Ministero degli Interni quindi non ci deve stupire che molte carte di Monsignor Benigni ma successive alla morte di San Pio X finirono nell'archivio del Ministero degli Esteri altre cose per ora sono ignote e prima o poi verranno fuori per esempio quasi inedito quasi inedito non del tutto sono delle carte di Monsignor Benigni di cui qui la fotocopie non ho portato gli originali che sono finiti da noi a Verrua Savoia la strada è stata questa qui allo scioglimento del Sodarizio un piano di cui vi parlerò in seguito per chi non ne sa nulla nel 21 Monsignor Benigni non cessò la sua attività che consisteva quindi nel tenere uniti gli amici che collaboravano con lui nella lotta contro tutti i nemici della Chiesa vedremo quali con il linguaggio molto vivace di Monsignor Benigni ad esempio ve lo cito a memoria lui citava la setta verde che era la massoneria il lupo rosso che era il bolshevismo da quando nacque l'internazionale bianca che era la democrazia cristiana la mano nera che erano i gesuiti e il vitello d'oro che non vi dico chi è perché non si può ma si capisce facilmente gli eschimesi gli eschimesi infatti quindi era un linguaggio piuttosto pittoresco che era un po' nel suo stile quando uno legge i libri sono anche più dotti tranne quando parla proprio di argomenti molto scientifici per il resto leggere i suoi libri è un piacere perché è vivacissimo il suo modo di esprimersi caustico sarcastico divertente non ci si annoia mai allora vi dicevo questi documenti sono giunti a noi in questo modo il signor Benilli li mandò sempre in forma anonima con città falsa da Friburgo ma in realtà scriveva da Roma li mandava questi amici uno di questi era Don Paolo De Tott che è stato uno dei collaboratori principali e di San Pio X e di Monsignor Benigni con lui pubblicarono fino al 29 una rivista che si chiama Fede e Ragione Fede e Ragione che fu la rivista del cattolicesimo integrale praticamente dal più o meno dal 22 no dal 19 fino al 29 se non erro 10 anni e poi morì alla fine il concilio Vaticano II vicino a Fiesole nella parrocchietta di Campania dove fu confinato quindi da Benigni a Don Paolo De Tott da Don Paolo De Tott a Giantulli padre Giantulli che è uno dei più grandi esperti della massoneria che ci sia stato viveva anche lui vicino a Firenze a Fiesole padre Giantulli lasciò il suo archivio sulla massoneria a uno storico che si chiama Vannoni il quale Vannoni lo ha ceduto a noi come dono ed ecco quindi come queste carte di Benigni sono giunte fino a noi lui ne pubblicò una parte in un articolo per la rivista di storia contemporanea edizione del Murino nel 1981 il secondo libro di Poulard sempre per le fonti il secondo libro di Poulard che ci interessa è l'unica biografia di Monsignor Benigni in francese anche questa del 77 come abbiamo detto e si intitola Catolicismo Democrazia Socialismo Catolicismo Democrazia Socialismo è una biografia intellettuale di Monsignor Benigni dall'inizio dall'inizio della sua vita di militante cattolico se vogliamo dire così fino alla morte perché lui pubblicò scrisse agì fino alla morte ovviamente morì appunto nel febbraio del 34 l'ultimo volume della sua storia sociale della chiesa è del 33 quindi ha pubblicato e ha lavorato fino alla fine non si è mai fermato allora il sottotitolo più o meno adesso cito a memoria non ho portato il libro perché ho paura di perdere per strada ed è praticamente ha vinto il pensiero di Monsignor Benigni dalle origini del socialismo alla vittoria del fascismo perché lui si interessò appunto interessato dalla nascita del socialismo alla questione sociale come d'altronde quel pontefice che lo stimò per primo che era allora decimo terzo e poi finì la sua carriera sostenendo come vedremo e vedremo anche perché il regime fascista ma naturalmente a modo suo e per i suoi fini evidentemente che sostanzialmente erano quelli della chiesa la vita di Monsignor Benigni come ho avuto modo di dire in quella intervista che Don Carandino mi ha dato mi ha fatto fare il 27 febbraio quindi negli 80 anni della morte è stata una vita avventurosa in un uomo solo di personalità ce ne sono 5 o 6 e non è che una o l'altra erano secondarie si direbbe che ha vissuto fino in fondo ognuna delle personalità che ha incarnato e li affuse tutte nella sua unica personalità allora possiamo parlare prima di tutto di Benigni come sacerdote ovviamente perché lo era e non solo lo era ma aveva un'altissima stima del sacerdozio cattolico e della chiesa della chiesa lui parlava in questo suo libro storia sociale della chiesa appunto il regno della chiesa sua vita sovrannaturale e interna l'impero della chiesa cioè l'influenza della chiesa sulla società praticamente per la restaurazione di ogni cosa in Cristo e quindi anche su chi è al di fuori della chiesa quindi la chiesa come fattore di civiltà di civiltà cristiana Moserò Benigni quindi fu prima di tutto soprattutto innanzitutto un sacerdote e aveva una vera profonda vita spirituale anche se i superficiali non se ne accorgevano il suo carattere era un carattere di prete ma non era un carattere pretesco potremmo dire così niente di rituoso niente di ambiguo niente di ipocrita in Moserò Benigni ma giudizi a volte anche feroci con menti appunto molto caustici al punto che ci fu tra i maligni coloro che lo attaccavano chi disse che ah ma quest'uomo in realtà sembra ateo e Emil Poulin disse non era ateo non è che non credeva in Dio non credeva nell'uomo è un'altra cosa evidentemente non credeva nell'uomo a questo proposito è significativo un episodio che rimase impresso nella memoria di Ernesto Buonaiuti che come tutti sanno è il più importante dei modernisti perlomeno italiani Buonaiuti fu allievo di Benigni e questo fatto servì ai nemici di Benigni in particolare padre Rosa che era gesuita direttore della civiltà cattolica per cercare di infangare Monsignor Benigni come se il professore fosse responsabile delle deviazioni dell'allievo ora se fosse così allora bisognerebbe dire che Monsignor Benigni è responsabile anche del fatto che due suoi allievi sono diventati papi perché Pio XII e Giovanni XXIII sono stati entrambi i suoi allievi ma praticamente tutti quelli che studiavano a Roma erano suoi allievi quindi non è voglia dire del granché o vuol dire molto perché ha lasciato un'impronta in tutti non era un professore che passava senza lasciare traccia comunque per tornare a noi in questo incontro tra Buonaiuti e Benigni si stimavano per l'intelligenza di entrambi che l'intelligenza si può usare bene o male Buonaiuti la usò male ma stupido non era e a un certo punto Monsignor Benigni disse al giovane seminarista Buonaiuti disse la storia della umanità è come un conato di vomito per cui a questa umanità non c'è altro rimedio che la santa inquisizione questo fu il commento molto ottimista di Monsignor Benigni al che Buonaiuti scrisse nella sua autobiografia la storia di un pellegrino e ci trova ancora facilmente dice quando ascoltai quelle parole avrei dovuto capire che non dovevo diventare prete effettivamente avrebbe evitato avrebbe evitato al mondo un prete fallito se avesse preso ma che cosa vuol dire vuol dire che Monsignor Benigni era un realista un uomo che credeva nel peccato originale Buonaiuti era un utopista un utopista un uomo che fondamentalmente credeva nell'innocenza dell'uomo ecco salvo poi non è che l'utopista si comportasse da santo l'utopista si comportava anche lui come tutti gli altri uomini ma non ammetteva la realtà e volevano giustificare anche le cose peggiori sotto gli aspetti più belli Monsignor Benigni vedeva le cose come erano e vedeva l'uomo come è ovvero sia un peccatore evidentemente allora questo già per descrivere il carattere Monsignor Benigni fu prete allora prete in questo modo ma fu prete c'è un'altra lettera tanto per presentarvelo male spero di non scandalizzare nessuno questa è una lettera famosa di cui noi abbiamo una fotocopia a un suo amico sacerdote storico anche lui di Perugia perché Monsignor Benigni era di Perugia scrive nel 29 e viva il buon umore vino della vita e viva la buona amicizia companatico della sullodata poi qualche riga dopo dice un po' come si sente in quel momento ho il vomito della vita e della sua cara società se fossi per virtù quello che sono per filosofia potrei guardare confidente il crocifisso cioè col disprezzo per il mondo ma conto sulla sua infinita misericordia che mi perdoni il mio filosofico vanitas vanitatum cioè vanità della vanità che involge uomini e cose ecco una confessione ad uno dei pochi che può capire già che salva la sua virtù cristiana credo che anche lei abbia in pietoso disprezzo questa vita boiaccia questo era lo stile di un signor Benigni dove dietro alla sua amarezza traspare una profonda umanità cioè chi non sa coglierla è un superficiale naturalmente chi legge bene vedrà la profonda umanità di quest'uomo dietro le espressioni così dure e disincantate sacerdote professore Moceno Benigni fu tutta la sua vita professore professore a livello universitario fin da giovane venendo la famiglia semplice entrato nel seminario di Perugia di Già nel 1888 scriveva al suo vescovo un promemoria sugli studi ecclesiastici nei quali lamentava la retratezza degli studi ecclesiastici è importante capire questo perché è vero che tra i cattolici che combattevano il modernismo c'erano anche degli ignoranti ma i modernisti trattavano tutti i cattolici che combattevano il modernismo da ignoranti e non è così in realtà gli ignoranti ci sono in qualunque collettivo umano tra i modernisti e tra gli antimodernisti ci sono persone meno dotate come ci sono i santi ci sono i cattivi ci sono i mediocri allora certamente ci furono persone più grossolane che difendevano la buona causa con cattivi argomenti non era il caso di Monsignor Benigni Monsignor Benigni fu accusato di tradimento dai modernisti perché lo consideravano non uno dei loro ma pensavano che era uno che gli avrebbe potuto capire perché Monsignor Benigni è sempre stato per la serietà degli studi scientifici per la ricerca delle fonti per dire se c'è un fatto che la storia dimostra falso bisogna dire che è falso come diceva Leone XIII la Chiesa non ha paura della verità bisogna dire le cose così come stanno era un uomo che lamentava appunto come vi ho detto l'arretratezza in tanti campi degli studi ecclesiastici nella storia che era la sua materia ma anche nelle altre materie e quindi ci fu questo equivoco ma Poulard dice in realtà non fu Benigni a cambiare i modernisti sì loro pensarono che aggiornamento negli studi voleva dire aggiornamento nella fede Benigni invece pensava aggiornamento negli studi voleva dire trovare argomenti sempre più solidi e sempre migliori per difendere la fede una prospettiva del tutto diversa ma non vediamo nessun parocchi è una persona che vede l'errore anche il più nascosto ma nello stesso tempo è una persona di studi profondi e docente a livello universitario lo fu sempre quindi ha insegnato a Perugia prima naturalmente a Roma poi e a Roma al seminario romano che veniva chiamato Apollinare che poi dopo divenne la Pontificia Università Lateranese insegnò a Paganda Fide insegnò al seminario Vaticano insegnò all'Accademia dei Nobili Ecclesiastici questo direi per tutta la vita e lasciò traccia di sé appunto nei suoi allievi cioè tutti quanti sono stati segnati profondamente dall'insegnamento di Benigni quindi Benigni studioso Benigni uomo moderno e uomo moderno si dimostrò anche in un'altra delle sue passioni che gli visse praticamente a tempo pieno che è quella del giornalista una brutta categoria di persone spero non ce ne siano qui ecco è un giornalista e lui era appassionato di giornalismo fin dall'inizio perché crebbe nel movimento cattolico nella militanza cattolica e la militanza cattolica che ebbe il suo impulso con Pio IX e poi soprattutto con Leone XIII e si serviva anche di giornali i giornali che diresse sono tantissimi lui divenne direttore di giornali e a quei tempi era la Santa Sede soprattutto che finanziava questi giornali cattolici intransigenti quindi che si opponevano ai fatti risorgimentali e fu direttore di giornale a Perugia direttore di giornale a Genova con l'eco d'Italia e poi fu chiamato a Roma da Leone XIII in persona quindi nel 1895 mi sembra per dirigere un altro giornale romano papale la voce della verità però non si accontentava di questo allora tra i giornali di cui lui si occupava erano i vecchi giornali intransigenti ottimi come dottrina con un piccolo problema non avevano lettori e naturalmente per un uomo pratico come lui l'intransigenza della dottrina era il suo pane quotidiano ma non avere lettori era un grosso problema perché noi dobbiamo riuscire a diffondere le nostre idee allora oltre alle riviste scientifiche perché fu il primo a fondare in Italia una rivista di sociologia cattolica il primo a fondare una rivista di storia ecclesiastica specializzata ma oltre a questo si occupava del giornalismo religioso politico per difendere l'Italia cattolica gli interessi della chiesa e per combattere i nemici di allora liberalisti liberalismo e socialismo ebbene Marcellino Benigni si trovò di fronte a questo problema quello dei giornali che fu il problema anche durante il pontificato di San Pio X sembrava che ci fossero solo due possibilità i giornali integralmente cattolici letti da pochi e i giornali cattolici liberali che si chiamavano di penetrazione che volevano cioè mettersi d'accordo con la mentalità del mondo e anche con chi teneva le leve del mondo dei media come si direbbe di quei tempi lì e il capo in testa di questo trust così veniva chiamato di giornali era il conte Grosoli un altro eschimese che si convertì e divenne l'ultimo capo dell'opera dei congressi che poi fu sciolta che poi fu sciolta da San Pio X ovvio perché disapprovava la conduzione Grosoli e questi giornali di penetrazione volevano quindi ammainare la bandiera cattolica non erano più integralmente cattolici ma cercavano di essere moderni per loro essere moderni voleva dire essere aperti ai liberali aperti ai non cattolici sembrava non ci fosse scelta che o l'uno o l'altro Monsignor Benigni invece pur continuando a collaborare a sostenere i giornali intransigenti quelli della buona dottrina che era anche la sua ebbe due idee due o tre idee innovative noi le nostre idee le nostre idee di cattolici integrali di cattolici intransigenti dobbiamo riuscire a diffonderle allora come? perché tutto ha fondato non solo dei giornali ma agenzie e stampa la corrispondenza romana era agenzie e stampa che uscissero quotidianamente e che dessero notizie con questo fondò non aveva il nome ma di fatto lo fu la prima sala stampa del Vaticano allora come ci sono i creminologi che devono studiare cosa succede nel creminino nessuno sa cosa succede ci sono i vaticanisti che devono studiare cosa succede nel Vaticano ma loro non sanno nulla chi lo sa chi ci sta dentro ora Monsignor Benigni ci stava dentro perché come vedremo stava in curia cioè era praticamente nella segreteria di Stato allora le informazioni lui le aveva si trattava di farla avere a tutti questi giornalisti soprattutto quelli laici che non ne sapevano nulla e che avrebbero pagato qualunque cosa pur di avere notizie ebbene le notizie le vediamo noi disse Monsignor Benigni naturalmente quelle che vogliamo noi ragione per cui ecco che le agenzie stampa di Monsignor Benigni in italiano ed in francese anche lì lui era un poliglotta ma poi spaziava non solo in Italia ma in Germania negli Stati Uniti in Belgio in Germania in Olanda cioè in tutti i paesi in Russia e in Polonia si informava di quello che accadeva ovunque aveva degli informatori ovunque e noi diamo le notizie alla stampa laica che non sa niente che non capisce nulla e che quindi non faranno altro che ripetere quello che diciamo noi e così fu in effetti in più aveva degli amici come per esempio Aureli che scriveva sui giornali liberali del tempo ma che in realtà era un amico di Monsignor Benigni li aveva piazzati nei vari giornali per cui da un lato continuavano uscire i giornali cattolici intransigenti per la buona dottrina e dall'altro mentre i cattolici che mettevano acqua nel loro vino presentavano dei giornali che rovinavano la dottrina cattolica e nient'altro invece lui faceva passare le idee intransigenti anche nel campo del nemico infatti un fenomeno notato da tutti ma a volte non spiegato sufficientemente come mai in genere l'ambiente laico benedetto croce in primis fu fondamentalmente ostile al modernismo eppure il modernismo voleva una riappacificazione tra il cattolicesimo e la mentalità moderna avrebbe dovuto vedere questo mondo con favore il modernismo ma un sentimento di ostilità serpeggiava non ovunque ma in molti ambienti anche non solo anche grazie al lavoro di Monsignor Benigni con questa influenza lui ha capito l'importanza dei giornali a quei tempi naturalmente non c'erano gli altri mezzi di comunicazione l'importanza dei giornali e l'importanza delle notizie e l'importanza di poter avere un'influenza fattiva in questo caso per cui la sua battaglia fu anche una battaglia giornalistica questo lo fece sotto il pontificato di San Pio X questo lo fece più tardi quando tutta la sua opera andò in frantumi dopo la morte di San Pio X col pontificato del successore Benedetto XV allora a quel momento lì si riorganizzò con una rivista integralmente cattolica quella di Don Paolo De Totte e sua fede e ragione e poi a Roma fondò altre agenzie di stampa Urbs eccetera che avevano sempre la medesima finalità in più conosceva come vi ho detto la stampa e i giornalisti e il mondo religioso e politico non solo in Italia non era un provinciale ma nel mondo intero potremmo dire quindi fu fino all'ultimo fu sacerdote fu docente universitario e studioso di storia un grande storico e fu un giornalista ma non fu solo quello la parte che più si contestò a Monsignor Benigni per la quale lui fu attaccato più duramente riguarda appunto la fondazione del Sodalizium Pianum cioè Associazione San Pio V e poi la sua attività successiva dopo lo scioglimento del Sodalizium Pianum nel 1921 la data di nascita del Sodalizium Pianum non è sicura perché in realtà iniziò senza questo nome fu creata poco a poco ma possiamo dare come prima data quella del 1906 cioè dell'entrata di Monsignor Benigni in curia alla segreteria di Stato e vedremo perché allora quale fu l'attività di Monsignor Benigni da questo punto di vista possiamo dire servizio informazione i nemici lo chiamano spia Monsignor Benigni era una spia termine brutto Monsignor Benigni però allora diamogli un nome più nobile preso dal passato se fosse vissuto secoli prima sarebbe stato inquisitore certamente egli ideò non tanto se vogliamo usare questo brutto termine di spionaggio non tanto un'associazione spionistica ma controspionistica non c'è Stato che non abbia il controspionaggio Monsignor Benigni era a servizio di uno Stato che era il Vaticano e quindi diede a questo Stato oltre che la sala stampa vaticana gli diede un servizio che doveva essere di controspionaggio se vogliamo usare questo termine o se vogliamo usare un termine migliore di servizio informazione come avvennero le cose certamente fu un'idea sua perché corrisponde assolutamente con la sua personalità ma l'idea fu proposta senza dubbio all'allora segretario di Stato di San Pio X il cardinale Merri del Val Monsignor Benigni era entrato in Curia non in segreteria di Stato ma a propaganda fide il prefetto del cardinal Gotti nel 1904 nel 5 fu incardinato nella diocesi di Roma ricordiamoci che era di Perugia la diocesi dove fu vescovo Leone XIII che fu lui che lo volle a Roma e gli cominciò a fare carriera se possiamo dire così perché lo stimava molto e poi nel 1906 entrò in segreteria di Stato nella sezione degli affari ecclesiastici straordinari vediamoci sono gli affari ecclesiastici ordinari gli affari ecclesiastici straordinari il che vuol dire avere rapporti con gli stati un'altra caratteristica della personalità di Monsignor Benigni è certamente l'uomo politico l'uomo di governo perché lui si è misurato con i principali governi europei in genere facendosi odiare naturalmente facendosi odiare da tutti il che ancora una volta era il segno che colpiva giusto perché faceva gli interessi di San Pio X e della Chiesa e quindi di Cristo e non certo quello dei governi secolari che erano più o meno tutti ostili alla Chiesa entrò quindi nella congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari cui segretario allora era Monsignor Gasparri Monsignor Gasparri come sapete canonista celebre autore di trattati fatti molto bene trattato canonico sul matrimonio fatti molto bene che poi divenne segretario di stato a sua volta sotto Benedetto XV e Pio XI all'inizio quindi l'inizio della carriera in curia di Benigni sembra propiziata dal Cardinal Gasparri il quale disse l'unico errore a vi rimprovero è aver messo in curia Monsignor Benigni perché in seguito il Cardinal Gasparri divenne nemico giurato di Monsignor Benigni e viceversa che chiamava il Cardinal Gasparri gas o gas asfissiante spero di non scandalizzare nessuno ma in tutte le famiglie volano gli stracci e quindi anche nella nostra a volte volavano gli stracci si conoscevano bene il Cardinal Gasparri pensava nella sua ingenuità di essere stato lui a far entrare nella sua sezione quella degli affari ecclesiastici straordinari Monsignor Benigni in realtà la cosa veniva da più in alto da Pio X stesso e da Cardinal Merri del Varch che era il segretario di Stato il Cardinal Gasparri che Cardinale non era ancora a quel momento se non erro pensava di farlo entrare al suo servizio per occuparsi delle scartoffie burocratiche o di trattare con gli stati nella prospettiva se faceva uno carriera poteva diventare nunzio poi Cardinale eccetera come poi divenne pure lui in realtà Monsignor Benigni entrò in segreteria di Stato per un motivo del tutto diverso ignoto a Gasparri lui l'ha preso sotto di sé ma non sapeva perché l'aveva preso in realtà l'aveva preso per un altro motivo il motivo era quello concordato tra Merri del Val e Benigni ora questa cosa l'abbiamo scoperta solamente in questi ultimi anni cioè quando Monsignor Pagani Pagano è andato a mettere il naso nelle carte Benigni la versione ufficiale che appunto era quella ufficiale era che Gasparri vede le qualità di questo Benigni lo fa entrare in segreteria di Stato Benigni persona che lavora persona piena di capacità quindi fa la sua carriera poi Gasparri viene messo da parte da San Pio X che manda a studiare il diritto canonico lo manda via dalla segreteria di Stato perché non coincideva la politica di Gasparri e Rampolla che era il suo mentore con quella di San Pio X e Benigni continua a fare il suo lavoro in segreteria di Stato fedelissimo a San Pio X ma qualche volta ci saranno dei problemi con gli stati soprattutto la Francia e la Germania il che porterà a qualche problema e alla fine Monsignor Benigni dovrà lasciare ma per motivi misteriosi nel 1911 quindi ancora sotto San Pio X la segreteria di Stato gli viene dato un titolo onorifico importantissimo nella teoria ma non nella pratica protonotario apostolico partecipante e verrà sostituito nel suo ruolo che svolgeva nella segreteria di Stato da un giovane Monsignor Pacelli che diventerà Pio XII quindi vedete la carriera che si poteva fare avendo il posto che Benigni aveva che nella curia segreteria di Stato era il quarto posto in segreteria di Stato Pula si chiede per un capitolo intero perché Pio X che era vicinissimo a Benigni cioè che sosteneva Benigni prima del fatto e che continuò a sostenere Benigni dopo il fatto lo abbia allontanato dalla curia come mai nessuno sa perché sono state fatte le ipotesi più più stramparate l'ha chiesto la Germania l'ha chiesto la Russia l'ha chiesto la Francia l'ha chiesto Tizio Caio Sopronio e non si sa perché in realtà la verità Monsignor Benigni l'aveva detta solo che non l'aveva detta tutta l'aveva chiesto lui l'uscita di Monsignor Benigni dalla curia l'aveva chiesto a lui lui aveva chiesto di uscire dalla curia e ha detto però datemi questo titolo un titolo abbastanza importante per far capire che non è una mia caduta in disgrazia ma c'è un altro motivo perché l'aveva chiesto lui allora Pagano finalmente scopre la questione storica come mai allora scopre due cose uno perché era entrato in curia e due perché era uscito era entrato in curia perché aveva proposto Meri del Valle Meri del Valle più decimo avevano accettato la fondazione o meno cercare iniziare a fondare a mettere in piedi questo servizio di informazioni che però non poteva essere reso di pubblico dominio allora quando si cercherà di sciogliere e si scoglierà nel 21 il Sodalizium Pianum sotto un pontificato diverso quello di Benedetto decimo quinto si tentò di applicare per lo scioglimento un canone del cosiddetto canonico che chiede lo scioglimento delle società segrete e l'accusa dei modernisti fu il Sodalizium Pianum in Monsignor Benigni è una società segreta prova ne sia abbiamo trovato le sue carte e usavano un cifrario scriveva in cifra risposta di Monsignor Benigni una società segreta è una società che non è nota alle autorità ora la mia società era nota alle autorità in quanto ha ricevuto lettere di encomio da San Pio X che era il superiore di tutti noi dal segretario di Stato Meri del Val dal prefetto della concistoriale Cardinal Delai dal Cardinale Vives Idutò e da altri Cardinali per i quali ho lavorato ragione per cui non è una società segreta è una società non ufficializzata è tutta un'altra cosa secondariamente la cifra in segretaria di Stato usiamo il linguaggio cifrato per i rapporti con i nunzi no? specialmente quando c'è motivo di temere che la posta venga intercettata ora visto il tipo di lavoro che devo fare io che dovevo fare io la mia posta poteva benissimo essere intercettata tant'è vero che lo fu dai suoi nemici e se lo hanno beccato fu proprio per quello ragione per cui dovevo scrivere in cifra quindi tutto questo spauracchio sodalizio un piano società segreta prova ne sia scriveva in codice eccetera si sgonfia per trovare invece la realtà un lavoro di massima responsabilità di massima fiducia data da un santo San Pio X e dal segretario di Stato Meri del Val che di San Pio X è nel braccio destra come l'ombra a chi a nessun altro che è Monsignor Bin quindi lui si serviva di questo lavoro faceva il lavoro in segreteria di Stato lo faceva bene ma scrisse lui stesso e il lavoro vero che è quello del servizio di informazioni del sodalizio un piano mi prende tanto di quel tempo avrei bisogno di quattro e più che ormai il lavoro principale che è quello ufficioso è diventato più importante di quello ufficiale che in realtà non è il principale quindi chiedo e ottenne nel 911 di lasciare il posto segretaria di Stato per potersi dedicare interamente all'opera del sodalizio un piano che infatti continuò a ricevere biglietti di encomio e finanziamenti in denaro da San Pio X per cui fu chiamato il sodalizio un piano e il suo fondatore Monsignor Benigni il peccato di San Pio X quando Pacelli Pio XII che conosceva tutti i personaggi della questione conosceva personalmente conosceva Pio X sotto cui ha iniziato la sua carriera ecclesiastica conosceva Benigni perché era il suo superiore diretto conosceva Gasparri conosceva tutti quando Pacelli vuole Pio X volle fortissimamente la canonizzazione di Pio X allora non era come adesso che fanno santi tra virgolette basta diventare sempre tra virgolette papi e si è subito sicuri di diventare santi diventano tutti santi allora i papi santi non ce n'era nessuno l'ultimo era San Pio V poi ci fu un beato Innocenzo X I voluto da Pio XII e basta Pio XII volle fortissimamente la canonizzazione di Pio X la beatificazione e la canonizzazione di Pio X e chi si oppose dei pezzi grossi alla canonizzazione di Pio X Gasparri Gasparri il cardinale Gasparri nei processi di beatificazione depose e disse Pio X non era santo non può diventare santo perché ha protetto e sostenuto e difeso i cattolici integrali e soprattutto Monsignor Benigni ha studerito un piano società segreta eccetera eccetera allora Pio XII che sapeva molto più di quello che si pensasse di cosa si trattava ha commissionato a padre Antonelli che poi Paolo VI diede la porpora il cardinale Antonelli Fernando Antonelli un francescano il compito di fare uno studio suppletivo un supplemento di indagine sulla questione del cattolicesimo integrale cioè è vero che Pio X mancò contro le principali virtù cristiane o qualche virtù cristiana sostenendo i cattolici integrali e il sodalizio un piano di Monsignor Benigni in particolare oppure questo sostegno fa parte della sua santità allora questa indagine voluta dal Papa fu pubblicata ma rimase sconosciuta anche lì per tantissimi anni fu pubblicata quindi negli anni 50 ed ebbe il nome di disquisizio viene conosciuta così dalla prima parola del titolo quindi romana beatificazioni e canonizzazioni servidei pii pape decimi disquisizio circa quasdam obieziones modum agendi servidei respicientes in modernismi debelazione una cum summario addizionale e giudizio compilà quindi praticamente una dissertazione su alcune obiezioni sul modo d'agire del servo di Dio cioè di Pio X riguardanti la lotta contro il modernismo contro il modernismo ovvero sia le questioni di cui vi ho parlato allora in questa disquisizio noi abbiamo pubblicato non tutto il testo in francese la trovate tutto interamente all'edizione del Curie de Rome in italiano trovate solamente l'estratto che riguarda esclusivamente il sodalizio piano di Monsignor dei Nigni eccolo qui lo trovate anche in vendita qui però c'è un'altra parte più vasta non pubblicata che riguarda gli altri cattolici integrali e quindi viene esaminata la questione come vi ho detto Gasparri quando era ancora vivo perché morì prima la prima della beatificazione e canalizzazione di Pio X testimoniò contro e Benigni era il peccato di Pio X la disquisizio dimostra il contrario sia per quel che riguarda il programma di cui vi dirò qualcosa sia per quel che riguarda l'azione di Monsignor Benigni certamente non dice Monsignor Benigni era un santo neppure lui pensava di essere un santo dice ma quest'uomo fu leale fedele efficace collaboratore di San Pio X quindi il sostegno che San Pio X diede che Pio X non era ancora santo diede a Benigni non è una colpa da addebitargli ma fa parte della sua santità possiamo dire che la disquisizio con Pio X canonizza tra virgolette approva finalmente l'opera di Benigni che dopo che cadde in disgrazia fu calunniato da tutti per decenni e morì in disgrazia quando morì ai suoi funerali a Roma erano presenti senatori deputati i carabinieri che gli fecero l'onore eccetera eccetera di preti in tutta Roma non sono i preti che mancano di preti ce n'erano due due francesi manco uno italiano questo per dire della buona fama di cui godeva tra gli altri preti tra gli altri preti quindi questa diffamazione calunnia che ha dovuto soffrire Monsignor Benigni che spiega anche le sue parole le sue parole di cui vi ho letto sulla vita boiaccia ebbene sono state lavate questa onta per così dire è stata lavata dalla disquisizio Pio XII ha voluto la disquisizio ha voluto possiamo dire anche la riabilitazione di Monsignor Benigni e un altro motivo lo si è scoperto sempre grazie a Monsignor Pagani che Dio benedica questo modernista curioso come tutti gli archivisti il quale maliziosamente tra le poche cose che ha pubblicato dell'archivio Benigni cosa ha pubblicato? beh i biglietti di Monsignor Pacelli a Monsignor Benigni con i quali Monsignor Pacelli quando Benigni è ancora in curia si dimostra per quello che era un informatore di Monsignor Benigni cioè nel sodalizio un piano ma al servizio possiamo dire Pacelli non faceva parte del sodalizio un piano ma faceva parte di coloro come il futuro cardinale Gaetano Cicognani anche di coloro che ufficiosamente e non ufficialmente lavoravano per Monsignor Benigni che aveva messo quindi parte della curia del suo servizio nella debellazione del modernismo l'idea di Benigni era come per i giornali la stampa laica combatte la chiesa con i suoi mezzi e noi dobbiamo combattere sul suo terreno non diventando come loro ma diventando più bravi di loro e quindi mettendoli al nostro servizio e non noi al servizio loro così con il modernismo il modernismo era una società segreta quella sì che era una società segreta perché i modernisti si nascondevano alle autorità alle autorità buoni uti quando scriveva per esempio la risposta dei modernisti lettera dei modernisti sull'Encighe Pascheni non ci mise il nome e il cognome gli autori della lettera furono scomunicati erano più di uno Buoni Aiuti era il principale Fra Cassini un altro che era di Perugia e altri no ma costoro però si nascondevano non solo si nascondevano ma anche loro erano un reso praticamente una filiera internazionale di gente in contatto l'uno con l'altro che si incontravano nascostamente famosissimo fu l'incontro di Molteno se non sbaglio in cui si riunirono i modernisti di tutta Europa per studiare i loro piani vivevano di scritti anonimi negavano l'evidenza stessa Buoni Aiuti com'è che fu scoperto? perché lui era nel cuore stesso di Roma Buoni Aiuti insegnava a Roma era compagno di banco di scuola di un nucleo di cardinali futuri per cui rimase sempre lui un certo rispetto per la chiesa romana che nei modernisti francesi per esempio Loisy non c'era e nello stesso tempo gli altri prelati anche importantissimi però come Gasparri stesso mantenero sempre un'amicizia con Buoni Aiuti Buoni Aiuti e Gasparri anche quando Buoni Aiuti ormai era scoperto come modernista è stato censurato eccetera e Gasparri chiacchierava con lui gli raccontava tutti i fatti privati fino a che Buoni Aiuti non ebbe l'impudenza di pubblicarli su dei giornali allora lì è un problema quindi c'era in questo piccolo ambiente romano di chi aveva studiato a Roma una conosceva erano tutti si conoscevano tutti conoscevano tutti e quindi questi modernisti vivevano al cuore stesso come dirà San Pio X nel seno nelle viscere stesse della Chiesa se l'aveva in casa con appoggi insospettabili anche nei più alti luoghi tra i vescovi e i cardinali ragione per cui era una vera setta quella si sconosciuta perché San Pio X ignorava tutto chi scoprì che buon aiuto era l'autore di questi scritti fu Benigni e anche altri con che metodi di infiltrazione con i metodi di infiltrazione per esempio alcune lettere compromettenti che erano state scritte in Svizzera ad un modernista italiano che studiava all'Università di Fiburgo in Svizzera fu intercettato da un emissario di Benigni che si era infiltrato presso questi circoli modernisti ma solo così si seppe chi erano i modernisti romani ora ha fatto bene o ha fatto male Monsignor Benigni ha fatto bene poteva essere detto in pubblico che lui svolgeva questa attività no evidentemente se no l'attività finiva subito immediatamente doveva essere discreta doveva essere discreta hai capito quindi che cosa faceva e come si comportava i modernisti a loro volta erano sleali quando per esempio Buonaiuti e dei suoi compici dai quali quel Van Nutelli sul quale ho scritto un articolo intero su Dalizium furono beccati e sospesi a Divinis Cardinal Gasparri per toglierli dalle mani del Sant'Ufficio li fece passare tramite lui e gli dice venite nella mia cappella privata e fate il giuramento antimodernista e io vi tolgo le censure credete che questi tre modernisti si rifiutarono di fare il giuramento antimodernista lo fecero subito sul Vangelo e sulla Bibbia avessero avuto dieci Vangeli e dieci Bibbie e l'avrebbero fatto era una commedia dove le due parti sia il Cardinal Gasparri sia i tre preti modernisti erano attori di una commedia sapendo che era una commedia e infatti c'è un commento caustico di Benigni su questa commedia che Pagano ha pubblicato e dice proprio una farsa una farsa sì che permetteva a Costolo di continuare a fare il loro lavoro di termiti all'interno della Chiesa andava avanti così sarebbe andata avanti così se Pio X o se Benigni non avessero agito in maniera ben diversa capite? per esempio erano tutti amici e Buonaiuti si sa è un amico in particolare di Roncali quando Roncali dovete scegliere il prete che in Gelsi si sceglie il miglior amico che doveva assistere all'ordinazione a prima messa scelse Buonaiuti e erano tutti studiati assieme Andreotti Buonanima si fa per dire scrisse quel libretto che cito sempre i tre del Gesù erano tre amici che andavano sempre a pregare nella Chiesa del Gesù e che erano Roncalli Buonaiuti e un altro meno noto che era anche lui un modernista dice due si salvarono perché protetti in alto loco dai loro vescovi il vescovo di Bologna e il vescovo di Bergamo Buonaiuti non ce la fece ma di protettori ne aveva pure lui incominciando dal teologo del sacro palazzo padre Lepidi ma tanti altri allora vedete la prima opera di Benigni che funzionò era quella di riuscire a trovare i documenti principali degli eretici modernisti i modernisti erano eretici questo Van Nutelli di cui vi ho parlato solo dopo la morte ha fatto pubblicare un testamento postumo nel quale ammette di non avere mai creduto prima ancora di diventare prete nella divinità di Cristo ma di voler restare a tutti i costi nella Chiesa il modernista è quello questo Van Nutelli era amico di Montini e amico del nipote dello zio della moglie di Andreotti Monsignor Belvederi amicissimo di Roncalli già negli anni trenta dicevano la messa faccia al popolo eccetera era gente così erano nemici della Chiesa che si nascondevano all'interno della Chiesa allora di fronte a gente che combatte in questo modo si può e si deve non commettere il male il peccato la menzogna eccetera ma si deve però combattere efficacemente come fa qualunque polizia contro un avversario che distrugge dalle fondamenta la fede dei cristiani il problema per Rocion Benigni è che le protezioni di cui godevano costoro erano molto in alto protezioni noi non sappiamo fino a che punto giungeva la complicità cioè se queste persone erano degli illusi che non capivano dei complici che giustificavano oppure persone che condividevano in pieno probabilmente è più probabile la prima parte di questa versione ma il grosso problema di Rocion Benigni fu questo qui lo scoglio che incontrò fu questo qui quando cioè loro trovavano i modernisti facevano in modo che si potessero prendere delle misure contro di loro e queste misure diventavano inefficaci per l'intervento dei loro diretti superiori cardinali vescovi i superiori degli ordini religiosi che li proteggeva quando si è dovuto alzare il tiro e Rocion Benigni non ha avuto paura di farlo ma ha alzato il tiro allora lì naturalmente si è trovato con dei nemici potentissimi dei nemici potentissimi quando non più dei semplici sacerdoti seppur importanti o dei monsignori ma dei vescovi persino dei cardinali erano evidentemente coinvolti con il modernismo come minimo come protettori come complici allora lì la questione era grossa era quello che aveva capito Fogazzaro lo spiritista l'occultista Fogazzaro nel suo romanzo Il Santo il quale dice appunto che bisogna che succeda che quando il pescatore Pietro no? il pescatore Pietro gettando le sue reti vedrà quello che c'è e che è una cosa così terribile così spaventore che non può più fare nulla per andare contro questo movimento e dovrà gettare le reti e rinunciare a opporsi a questo movimento modernista che sarà più forte di ogni altra cosa è un po' quello che successe ma in maniera molto più grave quando Pio XII in maniera molto più debole di Pio X cercò di stroncare il neomodernismo la nouvelle theologie negli anni 50 negli anni 5 c'era anche l'Arzio ma era un giovanissimo lì il neomodernismo che aveva una discendenza con anelli di contatto per esempio su Sodalizio l'ultimo numero nella rubrichetta genealogia ne ho fatte alcune Lubac di Lubac era discepolo diretto di Valensin eschimese pure lui il quale Valensin era discepolo diretto di Blondel cioè dei modernisti dei tempi di San Pio X praticamente il collegamento tra i modernisti autori del concilio e quelli dei tempi di San Pio X o è diretto Roncalli che fu inquisito e lui scomparì per riapparire in seguito no? quindi lui era giovane e gli è diventato vecchio ma è la stessa persona oppure sono i discepoli diretti di quelli che erano i modernisti dei tempi di San Pio X allora quando Pio XII incominciò a prendere qualche misura all'acqua di rose contro questi principali nuovi teologi non riuscì a fare quasi niente perché erano protetti dai loro vescovi perché erano protetti dai loro superiori religiosi sia dei dominicani che dei gesuiti soprattutto a Fulvier i vari Danielu i vari Lubac eccetera che poi capi dei progressisti divennero capi dei conservatori perché questo è un altro fattore no? che i modernisti di ieri diventano i capi dei conservatori di oggi oggi siamo arrivati al punto che adesso si stanno spacciando Müller che è il più progressista il più modernista dei modernisti sta facendo il ruolo del poliziotto cattivo o buono a seconda dei punti di vista cioè del tradizionalista e noi ci caschiamo sempre no? i giornali dicono quello è il tradizionalista quello è il progressista allora per chi sta? beh per il tradizionalista bene e ti danno come capo un modernista spaventoso evidentemente e il metodo è quello lì c'è sempre qualcuno più modernista che arriva dopo e che svolge il ruolo dell'acceleratore perché per il modernista c'è l'autorità che è il freno e lo spirito religioso che è l'acceleratore e questi questi due questi due fattori portano avanti la chiesa in continuità con la tradizione per una continuità eterogenea cioè tutto cambia tutto cambia come il fiume del filosofo greco che è sempre la stessa ma è mai la stessa quindi ecco alcuni ruoli svolti da Monsignor Benigni che però gli procurarono molti nemici nemici quando devo smettere ditemelo nemici sia a livello ecclesiastico i nemici di dentro i nemici interni e nemici naturalmente esterni perché l'opera di Monsignor Benigni fu anche un'opera contro i nemici esterni della chiesa i nemici esterni della chiesa per esempio a alto livello Monsignor Benigni ebbe tra nemici micidiali il governo francese e un po' meno ma anche il governo tedesco dei tempi il governo francese la bestia nera di Benigni che era la bestia nera sua Aristide Briano era quella che Enrico Stone chiamò la Repubblica del Grand Oriente la Repubblica del Grand Oriente la Repubblica Francese la Terza Repubblica e questa Repubblica del Grand Oriente faceva il lavoro del Grand Oriente quindi perseguitare la chiesa ci furono le famose leggi di separazione all'inizio del Novecento alle quali San Pio X rispose benissimo voi separate la chiesa noi vi condanniamo dopodiché agiamo in maniera del tutto indipendente da voi e gli fece tutta una sfornata di vescovi che difendevano la chiesa e quindi non avevano più dei compromessi con il governo che restaurò per una generazione una generazione di vescovi fedeli alla chiesa veramente e il governo naturalmente disse se voi non accettate le associazioni cultuali che vi proponiamo voi perdete la proprietà di tutti i beni della chiesa arcivescovadi chiese cattedrali vi confischiamo tutto San Pio X dice non accetta e gli hanno confiscato tutto i vescovi protestavano con San Pio X lei ci mette in misera San Pio X piano piano li sostituì con quelli nuovi e solamente che successe che con Pio XI si fece la cosa contraria ci si riavvicina al governo e si decide di accettare una versione riveduta e corretta delle associazioni culturali sono chiamate associazioni diocesane ma da un punto di vista dottrinale non è la stessa cosa per cui quello che il Papa decise poteva deciderlo era nella sua facoltà di deciderlo e non contraddiceva quello che di San Pio X ma l'ha fatto da un punto di vista dell'opportunità della scelta l'episcopato francese e i cardinali che erano fedeli alla memoria di San Pio X erano contrari erano contrari perché quella libertà della Chiesa che si era acquisita grazie alla rottura fatta dal governo massonico si stava per perdere proprio trovando un accomodamento col medesimo governo massonico e paradossalmente i vescovi e i francesi erano contrari all'accordo erano contrari perché erano stati cambiati San Pio X ne aveva messi di persone che capivano meglio cosa bisognasse fare per mantenere un po' la sua linea di governo del pontificato non a caso e in quel momento lì nel momento delle trattative per le cultuali col governo francese che si preparò il colpo contro il sodalizio piano di Monsignor Benigni per la morte di San Pio X aveva praticamente privato Monsignor Benigni dell'appoggio principale del Papa qui Benedetto X V non la pensava allo stesso modo e tuttavia il sodalizio piano continuò in regola sotto il patronato e la protezione del prefetto della concistoriale Cardinale Delai allora per farlo fuori si recuperarono quei documenti ottenuti in maniera delinquenziale da dei modernisti e democristiani tedeschi durante la guerra si ritrovarono questi documenti e un gesuita spione ma spione sul serio Monsignor Derbigni che ideò il russico per dargli un'idea poi fu destituito da Pio X I proprio perché scoprì cosa le faceva questo Derbigni e i suoi colleghi organizzò d'accordo con i modernisti d'accordo con i modernisti praticamente la diffusione di questo dossier contro il sodalizium pianum con questi documenti sequestrati durante la guerra illegittimamente con delle menzogne con delle calunnie accusando Benigni e Youngs che era questo avvocato di essere delle spie nemiche pensate un po' e quindi questo documento fu mandato a Roma dove il Cardinale Gasparri lo inoltrò al Papa e da lì la decisione di sciogliere Sodalizium ma non potevano dire perché era qualcosa che non era buono quando Benigni tirò fuori tutte le approvazioni di Pio X allora come facciamo a dire che un'opera cattiva se Pio X diceva che era santa? allora usarono la formula date le mutate condizioni le mutate condizioni cambiano le condizioni Sodalizium che era buono prima adesso non è più utile lo sciogliamo in realtà erano contro però la formula garantisce quindi che la Chiesa non ha condannato mai Sodalizium Piano perché la formula scelta è quella che resta e la formula scelta è mutate circostanze e condizioni ma vi dicevo non casualmente il momento dello scioglimento del Sodalizium fu il momento delle trattative col governo francese in quanto evidentemente si trattava di da parte del governo francese della massoneria francese di eliminare di eliminare i principali oppositori numero uno Monsignor Benito chi fu quello che fece da pre-union tra il governo bassonico francese e gli ecclesiastici che ottennero la disgrazia di Monsignor Benigni fu un certo Louis Canet questo Louis Canet è poco conosciuto era in realtà un personaggio importante dell'amministrazione francese quindi del governo era come un braccio destro di Aristide Bria quindi era al servizio della massoneria nello stesso tempo Louis Canet era un cattolico ma di che tipo? era l'esecutore testamentario di Loisy il capo dei modernisti francesi e del razionalismo biblico quindi un modernista eppure questo Canet lo vediamo discutere con i reverendi padri della compagnia di Gesù lo vediamo discutere eccetera ed è lui che organizzerà tutta la trama per giungere al siluramento di Benigni e del Sodalizio Pia ma non solo loro c'era un certo padre Salvie che in realtà era un italiano che era finito in Francia di origini italiane che fu niente meno che il fondatore della Documentation Catoli che esiste ancora oggi è una rivista cattolica francese ufficiosa o ufficiale più o meno in cui c'è tutta la documentazione ufficiale della Chiesa sia della Chiesa cattolica in genere e quella francese in particolare e aveva organizzato anche la Bon Press praticamente tutta la stampa cattolica francese questo padre Salvie era potentissimo vedete vedere un uomo di azione eccetera amicissimo quando ci sono le trattative tra la Santa Sede e il governo francese per questo vedere rifare delle relazioni dopo la rottura tra Stato e Chiesa delle leggi laiche massoniche del 1905 questo Salvie dava fastidio perché era in posizione importante nelle trattative stesse era amico del Vescovo di Parigi e di Lione e si opponeva al buon esito di queste cose lo hanno silurato lo hanno mandato in Siberia praticamente dove gli è venuto un colpo e pace pace all'anima sua quindi non è un caso tutto negli stessi anni non è un caso il siluramento del Salvezio Pianum e quello di padre Salvie e di tanti altri faceva parte di questioni politiche ad alto livello praticamente seguendo la vita di Monsignor Benigni possiamo vedere un po' le questioni sia dalla Chiesa sia degli Stati dall'interno e naturalmente dall'occhio di un vero cattolico integrale poi i nemici dei nemici la massoneria la massoneria la democrazia cristiana e il giudeismo quando il giudeismo Monsignor Benigni è riconosciuto universalmente come il più grande esperto della questione per tutta la vita e questo Pulà dice egli lo fu con una coerenza irrefragabile fin dalla gioventù perché? perché era fedele discepolo di Leone decimo terzo Leone tredicesimo che era stato il suo vescovo perché era vescovo di Perugia prima di diventare papa aveva diventato papa aveva preso come basi diciamo della lotta per la restaurazione del regno di Cristo primo a livello intellettuale la restaurazione della dottrina di Tommaso d'Aquino di San Tommaso e secondo la lotta senza quartiere contro i nemici della chiesa la massoneria e il giudeismo allora i padri gesuiti della civiltà avevano preso diciamo la prima fila questa lotta ma poi cambiarono sotto San Pio X cambiano una bandiera e incominciarono negli anni 20 i primi a fare gli accordi con la massoneria e stavolano proprio loro specialmente in Francia e in Germania invece Monsignor Benigni come era così rimasto avendo capito qual era il nemico principale della chiesa lo combatte a viso aperto in tutti i suoi scritti fino alla fine della vita ma con la diciamo la scientificità che gli permettevano le sue conoscenze storiche e sociologiche quanto alla massoneria la stessa cosa non solo una conoscenza estratta della massoneria che è necessaria perché molti si sono a dire tizio massone cagli massone che poi non si sa se è veramente la prima cosa da fare è di capire cos'è veramente la massoneria è una scienza della massoneria speculativa ma poi anche della conoscenza pratica per cercare di distruggere ora per esempio dei documenti ritrovati da Monsignor Pagano si vede che Monsignor Benigni aveva nei suoi archivi rapporti sulle riunioni delle loggie in cui lui sapeva tutto quello che succedeva lì dentro che vuol dire che c'aveva degli informatori qui c'ho sempre tramite padre Giantulli degli scritti che Monsignor Benigni mandò alla polizia politica italiana di informazione per esempio sulle loggie massoniche a Parigi che lui infiltrava della massoneria della teosofie che infiltrava e diceva guardate questi sono i nemici del governo italiano fascista quei tempi e sono i nemici della chiesa nemici del governo per voi vi dico i nemici del governo ecco chi sono ecco cosa fanno ecco gli indirizzi dove si riuniscono eccetera in uno dei documenti che ho fotocopiato e prodotto qui per esempio Monsignor Benigni accenna a Amendola nel prossimo numero di Sodalizio ne parlerò perché è uscito un libro sulla vita di Amendola padre non del comunista ma il padre che era socialista prima liberale dopo Giovanni Amendola che morì vittima di un agguato squadristico sapete questo Amendola era figlio di un Garibaldino e di una Mazziniana di erede diretto del risorgimento e lui da giovanissimo aderì al socialismo poi divenne liberale socialista e soprattutto alla teosofia di cui tutti i rapporti alla polizia politica di Benigni parlano della teosofia la teosofia era diffusissima a Roma stessa c'era un ologe di teosofi e alcuni attentatori anche i Mussolini erano teosofi ma poi nell'ambiente dei teosofi c'era anche gente che stava nell'ambiente fascista purtroppo quindi la teosofia era un problema che andava studiato e lui naturalmente lo studiava Amendola che è una delle personalità più importanti dell'antifascismo italiano per lunghi anni collaborò con la teosofia poi uscì dalla teosofia sì ma per andare dove? Nella masoneria poi uscì dalla masoneria uscì per modo di dire perché il partito politico che fondò Amendola con l'Aventino eccetera è uno del suo braccio destro Ruini non il cardinale Meuccio Ruini è un dignitario importantissimo della masoneria e pare che con Redini Amendola collaborò fino alla fine e infatti nei rapporti fiduciari di Benigni e la polizia politica si parla di Amendola già mostro come appunto uno di quelli che aveva in mano la conduzione di due associazioni paramassoniche a Parigi che servivano a riunire anche tutti coloro che cospiravano contro lo Stato il figlio Amendola comunista quello dell'attentato di Via Rasella perché fu deciso da lui comunista fu Amendola figlio sì sì notiamo però che fu anche dopo il capo degli minoristi e il primo e più grande discepolo suo fu l'attuale nostro presidente della Repubblica che non a caso ha fatto la prefazione al libro su Amendola e il padre del presidente della Repubblica testimoni anche Aldo Alessandro Mola presidente dell'associazione per la difesa della massoneria non dico massone e storico illustre della massoneria attesta che il padre di Tano era certamente affiliato alla massoneria quindi tutto questo ambiente tutto questo ambiente che dal risorgimento tramite il liberalismo la teosofia e la massoneria va al comunismo e alla sua versione adesso al servizio dei poteri forti dei poteri forti internazionali eccetera sono sempre le stesse persone e naturalmente se un governo vuole veramente restaurare in Italia qualcosa di serio e combattere veramente i nemici del nostro paese e della chiesa naturalmente deve riuscire a conoscere a combattere queste persone ora molti hanno calunniato Monsignor Benigni hanno detto ah Monsignor Benigni poi dopo ha collaborato con la polizia ma ha collaborato con lo Stato con il governo e perché con quale scopo con quale fine per vantaggi personali no per continuare la lotta che aveva iniziato con San Pio X se il Vaticano non gli dava più i mezzi per continuare questa lotta perché San Pio X capo della chiesa gli dava i mezzi economici politici di sostegno eccetera statale ecclesiastico per combattere contro gli nemici della chiesa quando lo Stato ha voluto ha detto che voleva fare un'azione antimassonica in difesa della civiltà ha detto benissimo io vi do le informazioni gli argomenti le notizie che voi potete usare io qua ho svariati testi che Vannoni trovò all'archivio di Stato di Roma potrei anche leggere sopportati non c'è assolutamente niente di sconveniente ma c'è assolutamente un'informativa pratica importante eccetera contro i principali nemici della chiesa un altro nemico era quello della democrazia cristiana Monsignor Benigni nella prima parte della sua vita possiamo dividere in tre quella in cui ha mietuto successi sotto Leone XIII e all'inizio di San Pio X era un personaggio dei più importanti dell'opera dei congressi che era l'opera lo diremmo l'azione cattolica di oggi che si opponeva però alla rivoluzione praticamente e l'opera dei congressi Monsignor Benigni veniva detto dell'ala sinistra l'ala sinistra non bisogna pensare l'ala sinistra erano dei sinistri l'ala sinistra vuol dire antiliberale assolutamente liberale lo era lo restò fino alla fine della vita anche lì democristiana ha detto tu sei un traditore no perché il suo antiliberalismo gli imponeva di rifiutare la confessionalismo di Don Murray prima fondatore vero della democrazia cristiana modernista scomunicato di Don Scurzo dopo la confessionismo a confessionalismo c'è un partito di cattolici ma non cattolico è contro i principi stessi della chiesa cattolica che la società deve essere cattolica questo fu uno dei punti principali del pontificato di San Pio X la lotta per i sindacati cattolici e non per i sindacati misti la lotta per un movimento politico cattolico e non indifferente la lotta per una stampa cattolica e non di penetrazione sempre San Pio X volle questo noi dobbiamo essere cattolici integralmente e questa era anche l'opera di Monsignor Benigni quindi anche lì naturalmente si trattava di combattere contro questo movimento democratico cristiano che assicurò il successo del modernismo e adesso vi spiego perché il modernismo è poliedrico a mille facce a mille facce c'è un modernismo dogmatico arriva a negare la divinità di Cristo la dimostrabilità dell'esistenza di Dio c'è un modernismo biblico esegetico allora tutta la Bibbia viene distrutta con la critica c'è una critica giusta c'è una critica invece sbagliata e quella dei modernisti naturalmente era a prioristica contro il sovrannaturale quindi distruzione della storicità dell'isperazione della Bibbia c'è un modernismo in tutti i campi ma naturalmente il modernismo nella esegesi il modernismo nella teologia quello spaventava di più ah come lì praticamente arrivano a negare che la Bibbia sia autentica arrivano a negare che Gesù Cristo sia Dio allora questa è grossa allora San Pio X li condanna ed ecco la bugia San Pio X ha estirpato il modernismo chi glielo diceva glielo diceva chi voleva che non continuasse la lotta contro il modernismo e gli dicevano la guerra è già finita non c'è più nessuno che abbia il coraggio di dire che Gesù Cristo non è Dio stia tranquillo santo padre ha vinto e San Pio X diceva a loro credete non è così non è così allora il modernismo come ha fatto il modernismo si è nascosto erano pronti a giurare di non essere quello che erano e poi si è ritirato sulle questioni più opinabili più discutibili non più sul dogma non più sulla divinità di Cristo ma in materia di filosofia perché la filosofia è questione di ragione non è questione di fede allora sostituiamo alla filosofia tomista una filosofia moderna senza cambiare la fede solo che se cambi lo strumento per riflettere sulla fede cambi la fede ah no 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 la fede rimane quella di prima cambiamo la filosofia ecco per esempio Blondel oppure cambiare l'apologetica che è una prassi come facciamo a convertire le persone allora quella del sentimento e non quella delle prove con i miracoli e l'esistenza di Dio oppure cambiare la pastorale la dottrina resta sempre uguale ma nel nostro modo di approcciare la gente cambiamo oppure cambiare la pastorale con la gioventù oppure cambiamo che cosa la liturgia che è pratica liturgia è una cosa pratica non è direttamente questione di fede indirettamente allora se c'è un gesto in più una genoflessione in meno non è la fede che viene toccata ecco e poi soprattutto il movimento sociale politico cattolico la democrazia eccetera allora i sindacati tutte quelle cose lì il modernismo sociale permise la sopravvivenza del modernismo la sopravvivenza del modernismo i modernisti non potevano più dire Gesù Cristo non è Dio la Bibbia è falsa eccetera lo hanno ridetto trent'anni dopo lo dicono adesso ma potevano però occuparsi di questioni apparentemente che erano del dominio della ragione della filosofia della politica della prassi allora lì abbiamo ancora mano libera e la battaglia si è giocata lì e per questo che Benigni dopo che il modernismo più religioso più speculativo fu sconfitto per il momento sapendo che la mala pianta esisteva sempre incominciò e San Pio X con lui la battaglia su questi punti che sembrano secondari ma non lo sono affatto come agiscono adesso i modernisti di oggi in maniera molto più spudorata perché comandano loro ma anche facendo così vedete per esempio che incominciano a prendere questioni di ordine morale piuttosto che di ordine direttamente di fede oppure nei rapporti tra Stato e Chiesa perché perché sono questioni non più discutibili cioè che la Chiesa è pronunciata di già ma meno gravi meno evidenti che per esempio la negazione dell'esistenza di Dio della divinità di Gesù Cristo lì cercano di mettere solo il dubbio procedono in maniera più guardinga naturalmente in tutte le questioni allora per esempio il divorzio ecco non si può dire che il divorzio è lecito però gli orientali scismatici hanno il divorzio allora chissà che visto che all'ecumenismo sono Chiesa sorella anche loro che non si possa scegliere la loro opzione incominciando non dalla teoria ma dalla prassi non sempre ma in un caso straordinario vedete il loro modo di procedere naturalmente questo modo di procedere è da volpi loro vogliono andare molto più in là dopodiché dei due modernisti uno fa il conservatore e dice no 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 non possiamo e l'altro dice sì 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 dobbiamo andare avanti sono cardinani tutti e due e il loro capo non dice niente come mai? perché è un gioco delle parti come un commissariato il poliziotto buono è quello cattivo il commissario li usa tutti e due e sciocchi quelli che ci credono evidentemente non bisogna credere né al poliziotto buono né a quello cattivo spero che ci sia una poliziotto insana è evidente no capito e il metodo è sempre lo stesso allora quando Benigni capì che il problema ormai si era spostato dalla critica biblica o dai dogmi si era spostato a un livello più concreto più basso però ha capito che era lì che poteva sopravvivere il modernismo e naturalmente lì ci fu lo scontro con il movimento in Francia di Marc Sagné in Sion e in Italia con la democrazia cristiana di Murray e poi dopo distrutto questo fu lo scontro scontro mortale anche lì Marc Sagné San Pio X lo condanna con l'enciclica sul Sion lì Benigni ebbe il suo ruolo ebbene Sagné che cosa fece? mi sottometto dopo di che continuò a dire esattamente le stesse cose di prima e io ho fatto una citazione del cardinal Verdier civesco di Parigi negli anni 30 dove diceva tutto il bene nell'azione cattolica politica sociale della Chiesa viene da Marc Sagné cioè chi era condannato da San Pio X all'inizio del Novecento come l'iniziatore di un movimento di apostasia con una parolina mi sottometto poteva essere riciclato e riverniciato come il miglior difensore della Chiesa in ambito politico vedete l'operazione lì si è giocata la sopravvivenza o la morte del modernismo sono sopravvissuti dopodiché negli anni 50 ecco che il fiume carsico è uscito di nuovo è uscito di nuovo allora sono tornati di nuovo a demolire e attaccare i fondamenti stessi della fede sostituendo la fede col sentimento religioso che è tipico del modernista il modernista è un agnostico che non crede neppure in Dio con certezza è un agnostico che trova però un Dio un Dio nel suo cuore e nella sua coscienza questo è il credente modernista che è poi l'esito del protestantesimo razionalista da un lato e sentimentalista dall'altro soggettivista dall'altro le due versioni del protestantismo quindi cari amici ci sarebbero tante altre cose da dire ma siccome sono le sette bisogna andare in trattoria o a casa direi possiamo finire qui Scusi la teosofia cosa voleva cosa propignava io non so viviamo in mezzo alla conseguenza della teosofia senza renderci conto la teosofia è una cialtroneria inventata da una donna Elena Petrovna Blavatsky che poi non era neanche il cognome suo ma del vecchio marito che lei abbandonò subito non è un caso non è un caso non è un caso sia donna sì e beh allora Costei faceva parte di massonerie massonerie miste che ammettevano anche le donne massonerie non l'ammette era una specie di era una vera e propria occultista praticamente si occupava di magia fu a fianco di Garibaldi nelle guerre di Garibaldi contro il papa contro Pio IX e fondò questo movimento di teosofia che praticamente era un movimento spiritualista molto incentrato sulla spiritualità dell'induismo la mania per l'induismo che è venuto poi dopo con i figli dei fiori e poi a cadere eccetera eccetera i precursori sono stati i teosofi ma non solo di questo si è interessata si è interessata anche di diffondere il femminismo la contraccezione soprattutto la sua discepola la papessa come la chiamava Bellini Annie Besant dalla teosofia si scinde l'antroposofia di Steiner con le famose scuole steineriane dove i figli di Berlusconi sono andati anche su scelta della pseudo moglie la teosofia aveva tra l'altro tra i suoi simboli la svastica perché è uno simbolo hinduista come ben si sa e esiste tuttora esiste tuttora è una cozzaglia è una specie una paramassoneria è una cozzaglia di tutto l'occultismo lo spiritualismo non cristiano o pseudo cristiano che sia possibile trovare tutto quello che riguarda l'occultismo è quello che è diffuso dal new age d'altronde il new age la nuova era erano i titoli delle riviste massoniche anche di cent'anni fa l'attuale new age è praticamente la volgarizzazione e la diffusione a chiunque della teosofia la quale di già a sua volta era una cialtronizzazione di cose tra virgolette più serie se vogliamo dire così diciamo solo che come piccola curiosità i massoni che si ritenevano più seri o più studiosi o più accademici disprezzavano come che no che non ha scritto un libro contro la teosofia è un libro contro lo spiritismo ma però se non è zuppa e pambagnata cioè occultiste l'uno o occultiste gli altri abbiamo visto preti che si bisticciavano ma ci sono anche massoni che si bisticciano perché no però ha sempre parlato contro la mancia non ha mai è stato sempre un punto distintivo perché no diciamo anche non per difenderlo però per dire la verità quando era vescovo della chiesa agnostica che cosa faceva? certo però poi ha rinnegato completamente nel senso che la prospettiva che noniana per definizione proprio antimagica è in contrapposizione a Evola sì antimagica va bene però questo non è che salva che non però è questo punto di vista certo infatti è scritto è scritto contro l'antimagica adesso noi allontaniamoci dal tema vuole fare una domanda al sera di dietro? poi segniamo una domanda anche io avanti voi ha parlato di una serie di nemici no? sì non so se li ho finiti tutti ma vabbè basta cosa avevano in comune anche se per esempio i boscevismi potrebbero essere stati finanziati dagli eschimesi per il goletto l'ha detto anche Putin recentemente non a caso lo sto confermando agli stessi eschimesi allora perché qual era l'interesse comune di voler contrastare la chiesa la chiesa quella vera mi riferisco anche a Don Curzio Unitorio non so se lei conosce gli scritti di Don Curzio Unitorio beh insomma ho vissuto se hai vent'anni insomma anche a Don Luigi Villa insomma lei lo conosce perfettamente c'è un progetto sempre degli eschimesi che parte da lontano da molto lontano e questo è un discorso molto più lungo con i maroniti per esempio e che fosse riguardo Benini riguardo Benini perché Benini fu il massimo esperto della questione della questione giudaica massimo esperto anche sulla questione dell'omicidio rituale che è un dettaglio importante nella questione giudaica generale ma diciamo che qui usciamo dall'ambito delle idee della politica della dottrina della storia e bisogna arrivare a qualche cosa di religiosa che la questione per comprendere veramente realmente fino in fondo la questione bisogna andare alla questione religiosa cioè bisogna risalire a mio parere a quello che era il piano di Dio nell'elezione prima nella riprovazione dopo di un popolo non in ogni singola persona ma nella collettività nel suo essere un ente collettivo le epistole di San Paolo tutte quante parlano di questo tema senza aver ben meditato queste questioni si vedrà del problema solo ciò che c'è alla superficie problemi importanti di ordine politico di ordine economico di ordine sociale di fatti storici eccetera sono tutte questioni importanti ma di queste questioni è come vedere di una malattia i sintomi ma di non conoscerne l'origine o male qui o male là o male là mi sento questo mi sento quest'altro cosa sarà mai per trovare veramente la radice profonda l'unica prospettiva esoriente e che evita anche tanti errori e tanti sbagli in questa materia che è facile commetterli e quella religiosa soprattutto quella che ci viene data dalla sacra scrittura tutta quanta e dall'epistole di San Paolo in particolare e quando lui dice sono i nemici del genere umano e hanno come questa misteriosa funzione di impedire che i gentili i ebrei credano in Cristo questa è la parola di Dio e dà di una profondità enorme perché la loro elezione era proprio l'opposta far conoscere Cristo alle genti e invece diciamo il ruolo invertito che svolgono misteriosamente è quello di impedire alle genti di credere in Cristo è un ribaltamento misterioso e questo ribaltamento fa parte del piano divino che è una cosa molto più grande molto più vasto c'è un piano divino per ciascuno di noi c'è un piano divino per i popoli e per la storia e questo fa parte di questo piano divino come mistero di iniquità dopo il mistero di elezione naturalmente questo penso come risposta ho dimenticato di citare il programma sodalizio un piano allora per chi non lo conosce la sua grande attualità lo trovate anche nel numero 61 di sodalizio è organizzato in un per e contro questo programma per me può essere preso ancora oggi come programma da tutti noi fu approvato dalla chiesa la disquisizio dice questo documento di una importanza capitale la lettera e lo spirito sono indubbiamente lodevoli e soprattutto da rilevare che il programma così come nella carta risponde alle idee e agli intendimenti di Pio X che voleva ricondurre il mondo alla piena restaurazione in Cristo senza compromessi di sorta il programma si articola in 18 punti noi siamo cattolici romani integrali e spiega cosa indicano questi tre termini quindi noi siamo papalini clericali antimodernisti antiliberale antisettario quindi integralmente contro rivoluzionari poi dopo c'è appunto molto lungo noi lottiamo per il principio per il fatto dell'autorità della tradizione dell'ordine del giudice sociale consideriamo come piaghe nel corpo umano della chiesa lo spirito è il fatto del liberatismo del democratismo cosiddetti cattolici come del modernismo intellettuale pratico radicale o moderato con le loro conseguenze poi salto naturalmente alcuni di questi punti per vedere il punto sesto allora in un punto sesto abbiamo i nemici esterni e interni gli esterni le sette giudeo-massoniche e i loro alleati diretti sono nelle mani del potere centrale della setta gli interni modernisti demo-liberali eccetera gli servono di strumento cosciente o incosciente per l'infiltrazione e la decomposizione tra i cattolici questo è anche un po' una risposta che mi chiedeva il collegamento noi combattiamo la setta interna ed esterna sempre dovunque sotto tutte le forme con tutti i mezzi onesti ed opportuni nelle persone dei settari interni e esterni dei loro compici noi combattiamo soltanto la realizzazione concreta della setta della sua vita della sua azione dei suoi piani questo intendiamo farlo senza alcun rancore verso i nostri fratelli traviati come altresì senza alcuna debolezza senza alcun equivoco come un buon soldato tratta sul campo di battaglia quanti militano sotto lo stendardo nemico i loro ausiliari e i loro complici ecco la prassi di venire siamo in una battaglia c'è il nemico un buon soldato come deve trattare il nemico gli ausiliari e i complici così li trattiamo noi senza odio ma facendo quello che bisogna fare allora poi dice noi siamo contro e siamo per siamo contro ogni tentativa di diminuire di rendere seconda simbonare le rificazioni di papà la questione romana quindi la questione del risorgimento di ostacolare l'influenza sociale del papato di far dominare il laicismo per la rivendicazione stancabile della questione romana dei diritti e le direzioni a Santa Chiesa poi contro l'interconfessionalismo cioè gruppi e associazioni di persone di confessioni diverse l'interconfessione la massoneria è interconfessionale e così questo interconfessionalismo l'ha combattuto nel partito popolare lo ha combattuto nei sindacati interconfessionali ovunque ci fosse l'interconfessionalismo il neutralismo il minimismo religioso nell'organizzazione azione sociale per la confessionalità in tutti i casi contro il sindacalismo apertamente o implicitamente a religioso neutro amorale che fatalmente conduce alla lotta anticristiana nelle classi secondo la legge brutale del più forte contro il democratismo anche quando si chiama cristiano eccetera eccetera contro il liberalismo anche quando si chiama economico sociale che spinge con il suo individualismo la disegregazione religiosa quindi non contro l'uno ma non contro l'altro nemici della chiesa sono tutti nemici della chiesa il problema è che a volte uno dice io sono contro quelli lì allora mi allevo con quelli là oppure sono contro quello là mi allevo con quelli lì invece contro uno due tre per l'armonia cristiana fra le classi fra loro come fra l'individuo e la classe della società intera per l'organizzazione corporativa della società cristiana secondo i principi e le tradizioni giustizia e carità sociale eccetera contro il nazionalismo pagano che fa riscontro al sindacalismo a religioso quello considerando le nazioni come questo le classi quali collettività di cui ciascuna può e deve amoralmente fare i propri interessi anche al di fuori contro quelli degli altri e nello stesso tempo contro l'antimilitarismo e il pacifismo utopista sfruttati dalle sette allo scopo di indebolire e addormentare la società sotto l'incubo giudeo-massonico per il patriotismo sano e morale il patriotismo cristiano di cui la storia della chiesa cattolica ci ha dato sempre splendidi esempi quindi chiarissimo contro il femminismo a parlare con il femminismo nel 1910 è un preveggente che esagera e snatura i diritti e i doveri della donna mettendoli fuori dalla legge cristiana contro la coeducazione dei sessi contro l'iniziazione sessuale della fanciulezza ma per il miglioramento delle condizioni materiali e morali della donna della gioventù e della famiglia secondo la dottrina della tradizione cattolica contro la dottrina è il fatto profondamente anticristiani della separazione tra stato e chiesa è chiaro come fra la religione e la civiltà la scienza le turature e l'arte per l'unione leale e cordiale tanto la civiltà la scienza e la turatura e dello stato con la religione e con la chiesa contro l'insegnamento filosofico donmatico e biblico modernizzato anche quando non è prettamente modernista ma chi si avvicina per l'insegnamento ecclesiastico ispirato e guidato dalla gloriosa tradizione della scolastica e dai santi dottori della chiesa contro il falso misticismo attenzione a tendenze individualistiche illuministe illuminati di tutti i generi e invece per la vita spirituale intensa e profonda secondo l'insegnamento dottrinale pratico dei santi e degli autori mistici lodati dalla chiesa in genere contro lo sfruttamento del clero e dell'azione cattolica da parte di qualsiasi partito politico o sociale e in specie contro l'esagerazione sociale che si vuole inoculare al clero col pretesto di uscire dalla secrestia per rientrarvi che troppo raramente o di nascosto e per il mantenimento dell'azione sacerdotale rispettivamente l'azione cattolica nel suo insieme sul terreno apertamente religioso avanti tutto e senza esagerazioni sociali simili per il resto contro la maniera la debolezza di tanti cattolici voleva apparire coscienti ed evoluti del proprio tempo e bonari di fronte al nemico ma sempre implacabile pronti a stentare il loro teodantismo e arrossire se non a dire male degli atti giusti di giusto rigore compiuti dalla chiesa cioè praticamente questi qui che sono pieni di comprensione per i nemici della chiesa e pieni di severità per la chiesa ecco e invece per un contenio giusto e conveniente ma sempre franco energico e instancabile di fronte al nemico alla sua violenza e alle sue astuzi e infine contro tutto quanto è opposto alla dottrina alla tradizione a disciplina al sentimento del cattolicesimo è integralmente romano e per tutto quello che gli è conforme è un programma veramente moderno un programma chiaro un programma che non lascia spazi o compromessi di nessun genere e che unisce la dottrina e la prassi mirabilmente esposta quindi chiudo la parentesi perché mi sembrava di non aver parlato due domande ancora e vogliamo chiudiamo velocissimo guardi allora prima è questa lei ci ha detto che Monsignor Benigni ha lavorato fino alla fine cioè fino al 34 la storia sociale della chiesa è il 33 le volevo chiedere la posizione se si è espresso sia nei confronti dei patti laderanensi del 29 sia sul fascismo il quale fascismo fra le tante cose belle o brutte aveva anche messo all'indice la massoneria allora due questioni importanti grazie di avermi le poste perché le avevo dimenticati allora ne parlerò in un articolo prima o poi uscirà sulla conciliazione del 29 fu favorevole al contrario del suo grandissimo amico e l'altro membro del giornalismo in Francia l'abbè Bulen padre Bulen che era contrario però Gasparri è stato lui a fare un segretario di Stato certamente allora lui era d'accordo per il realismo tipico di Monsigno Benigni certamente posso dirle che per esempio i cardinali più vicini a Pio X della Aie Meri del Val chiesero a Don Paolo De Tot amicissimo di Benigni di intervenire presso Arnaldo Mussolini che era la via di comunicazione dei cattolici perché erano stati messi fuori dalle trattative in pratica la conciliazione in sé visto che era un fatto difficilmente evitabile sì ma come farla è un'altra questione quanto al fascismo Monsigno Benigni dottrinalmente si oppose al fascismo regime nella maniera più ferma eh regime pardon movimento in maniera più ferma se lei legge fede e ragione De Tot Benigni gli attacchi contro il fascismo nascente sono durissimi denunciando nel fascismo nascente l'opera della massoneria ed era vero ed era vero si pensi che la riunione famosa a Milano piazza San Sepolcro ospiti di Cesare Goldman esponente del giudaismo e della massoneria dice non tutto ma è un bel esempio dei quattro famosi quadrumvi della magia su Roma l'unico non massone era Mussolini lui erano gli altri tre quindi Benigni fu nettamente contrario al fascismo movimento a partire dal 22 23 Monsignor Benigni di più Don Paolo di Totti di meno ma entrambi valutarono il fascismo in un altro modo in quanto la decisione del governo Mussolini a quel momento non era più il fascismo era il governo d'Italia il governo italiano aveva preso delle misure nel campo del lavoro parliamo della carta del lavoro nel campo della soppressione delle sette quindi della massoneria di fatto eccetera eccetera l'incompatibilità tra l'appartenenza alla massoneria e al fascismo che però fu una barzelletta perché i gerarchi massoni rimasero nel fascismo e fecero quello che dovevano fare ma ne vado ce ne erano anche dopo il 43 c'erano da entrambe le parti c'erano anche degli antimassoni che erano massoni Farinacci per esempio fu un fascista rumorosamente antimassone e qualcuno fece la battuta per essere sicuro di non sbagliarsi era affiliato alle due massonerie sia Piazza del Gesù sia Palazzo Giustiniano allora l'opera di Monsignor Benigni che fondò l'IRDS istituto romano di difesa sociale si programmava questo il nostro istituto combatterà chi combatte il governo fascista noi vogliamo sostenere il governo fascista e se c'è qualche cosa di sbagliato nelle idee nel governo faremo per così dire un'opposizione costruttiva praticamente il cattolicesimo sociale e politico si divise in tre tronconi di fronte al fascismo dopo la vittoria di Mussolini e soprattutto dopo le scelte pratiche di Mussolini in favore della Chiesa un troncone rimase antifascista apertamente o chiaramente antifascista per motivi non cattolici di Mussolini ma per motivi di democratismo liberale ed è la democrazia cristiana che ha trionfato dal 43 in poi un altro troncone che faceva parte del cattolicesimo liberale filo modernista si schierò col fascismo in una prospettiva clerico fascista il fascismo ha realizzato quell'armonia tra il risorgimento liberale e il cattolicesimo quindi molti nemici di Monsignor Benigni Grosoli Mattei Scornaglia eccetera che erano dei cattolici liberali dei cattolici modernisti in parte persino Don Murri il fondatore della democrazia cristiana si schierarono col fascismo ma perché videro nel fascismo l'inveramento del risorgimento liberale allora Monsignor Benigni è totalmente contro queste persone qui invece Monsignor Benigni da uomo pratico dettolto da uomo di dottrina rimase sulle sue Monsignor Benigni da uomo pratico decise qui bisogna fare qualcosa per fare qualcosa bisogna scegliere non possiamo restare neutrali per scegliere bisogna fare in modo che il governo fascista sia usato come strumento efficace per combattere i nemici principali della chiesa ovvero sia l'internazionale giudaica il vitello d'oro la setta verde la massoneria e poi il democratismo l'internazionale bianca la democrazia cristiana che è il modernismo sociale che rovina la chiesa e quindi l'attività di sostegno al regime che diede ma sono benigni come informatore della polizia politica del ministero degli interni prima degli esteri ma dagli esteri fu silorato dal ministro che era chi il ministro degli esteri che silurò benigni un altro siluro Dino Grandi che essendo un super passione evidentemente pensava che le informative di benigni erano inutili ma è chiaro che erano inutili è ovvio quindi il lavoro che il signor Benigni fece non fu un lavoro di sostegno di ciò che il fascismo aveva di nazionalismo pagano contro il quale egli era chiaramente schierato ma fu un sostegno pratico e concreto per distruggere il più possibile dei nemici comuni e soprattutto per avvertire e illuminare per così dire il governo e chi poteva fare qualcosa per l'Italia per la chiesa dei pericoli che correva perché esso stessi erano pieni di gente così cioè c'aveva dentro dei personaggi così padre gemelli padre gemelli padre gemelli allora soprattutto fu un'altra cosa non era come Monsignor Benigni lui era più o meno assieme a padre Rosa che di Benigni era il nemico pubblico numero uno e formarono l'ala destra della DC allora l'ala destra della DC che non era DC ma era il PP quando il PP fu fondato il movimento cattolico fu spiazzato il più decimo non aveva mai voluto benedetto decimo quinto chiuse gli occhi e tollerò fece finta di Giaccio e Gaspar allora all'inizio i cattolici intransigenti non vogliono entrare nel PP che era il nemico loro numero uno quando videro che era l'unica realtà esistente cosa facciamo vediamo di condurlo al confessionalismo e all'intransigenza di sempre fondarono l'ala destra la cosiddetta la destra era per un partito popolare integralmente cattolico quest'ala destra divisa in due in due parti o in tre quella di Benigni de Toth che era la cattolica in integrale che continuava il programma di Pio X che si servia come uomini politici cattolici di Medorado Albani e dei Sassori e dei Bianchi quella milanese di Olgiati e Gemelli e quella di Roma di Padre Rosa e dei Gesuiti allora questi tre aspetti dall'area destra si detestavano e quindi Gemelli ma soprattutto Padre Rosa fecero fuori Benigni e Toth allora Benigni e Toth dissero il collaborare col PP è impossibile ed è per questo che Medorado Albani e Sassori dei Bianchi uscirono dal partito popolare prima avevano cercato alleandosi con l'estrema sinistra della DC di far fuori il gruppone di Sturzo ma falleva ultima domanda ora in realtà ne sono due io cerco di farle brevissime allora no sì 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 allora intanto abbiamo appreso come la figura di Umberto Benigni sia stata molto complessa un sociologo uno storico un uomo pratico un James Bond era un appassionato esattamente dopodiché una persona di straordinaria cultura esperto di giudaismo e quant'altro autore di quell'opera monumentale di cui lei spesso parla storia sociale della Chiesa che si ferma in me purtroppo al XVI secolo per motivi proprio di non ha fatto il tempo quello era il punto quello era il problema evidentemente i punti verso Dalizium Pianum rispondevano ad un'esigenza di controspionaggio tra virgolette per farla breve e non solo e non solo però ci sono anche delle era un vero e proprio istituto secolare anche in questo c'è la modernità lui voleva l'approvazione della Chiesa come istituto secolare che a quei tempi non esistevano praticamente quasi ci sono dei punti che fanno trasparire anche qual è quella idea sociale che debba esserci in una società rettamente intesa e ordinata io questo volevo chiederle intanto la sua opera monumentale della storia sociale della Chiesa ovviamente sarà stata scritta con una sapienza anche pratica pragmatica concreta data la sua storia favorire tra l'altro quindi immagino sarebbe possibile estrapolarne diciamo dei contenuti ci abbiamo già pensato per esempio noi l'abbiamo letta a tavola il seminario l'abbiamo letta a tavola allora la storia sociale della Chiesa non è una storia della Chiesa come le altre nell'anno tale successe quello ma è l'influenza sociale della Chiesa cioè l'influenza della Chiesa sulla società i monti di pietà dall'inizio della cristianità dalla fondazione del cristianesimo fino a oggi in realtà fino all'inizio dell'era moderna si è fermato lì dal punto di vista etico-giuridico dal punto di vista politico dal punto di vista economico studia questi tre punti tenendo in considerazione dei coefficienti naturali che prende dai politi che non è cattolico e lo dice chiaramente che sono la razza l'ambiente e il momento che influiscono sulla storia però non sono decisivi naturalmente tutto questo per mostrare l'impero della Chiesa cioè come tutte le cose possono essere restaurate in Cristo dal punto di vista economico sociale politico morale etico-giuridico grazie all'influenza benefica che la Roma cristiana e cattolica e papale ha avuto lungo i secoli allora come estratti un estratto riguardante tutto quello che Benigni ha scritto sul problema giudaico attraverso la storia della Chiesa è stato fatto in francese è stato tradotto in francese pubblicato sulla RIS cioè la Revue Internationale des Societés Secrètes dove il fondatore Monsignor Juin ma il vero quello che dirigeva tutto per tantissimi anni fu la Beboulin che era il braccio desto di Benigni allora lì c'è stato già un estratto su questo tema noi volevamo durante la lettura a tavola in seminario per anni e anni abbiamo letto la storia sociale della Chiesa abbiamo finito adesso volevamo pubblicare in estratto perché i sette volumi è un problema economico che ci supera una parte del volume dedicato a Monsignor Benigni è la crisi del Medioevo perché quando parla della crisi del Medioevo mostra quali sono stati tutti i coefficienti che hanno portato alla crisi della società cristiana cioè tutti i nemici della cristianità della società cristiana nella filosofia l'Islam il giudaismo la letteratura le sette segrete eccetera eccetera li studia tutti uno dopo l'altro spaziando appunto dalla letteratura alla politica alla filosofia eccetera eccetera per esempio quello che ho scritto sui tre anelli la legenda dei tre anelli che si trova in Boccaccio ma prima ancora negli scritti cavallereschi dell'epoca di Federico II c'è Benigni diciamo quindi l'influenza della filosofia avveroista i trovatori i fedeli d'amore le sette templari tutto 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 allora è veramente un quadro illuminante sulla crisi sociale economica politica giuridica etica e religiosa della cristianità per capire come la rivoluzione come la rivoluzione ha proceduto secoli fa e come continua a fare ancora oggi perché poi fa dei continui rimandi ai tempi a noi contemporanei ecco solo quelle pagine lì valgono la pena di essere pubblicate tutte valrebbero la pena di essere pubblicate ma quelle sono veramente di un grande interesse quindi non rubateci l'idea per favore perché stiamo già persi poi brevissimamente se fosse possibile brevissimamente siccome uno dei topoi di una sorta di neogallicanesimo è quello proprio di sminuire se non di calunniare l'opera di più undicesimo riguardo l'action francese o di anche benedetto quindicesimo magari esagerandone la minor vehemenza rispetto a San Pio X nei confronti del modernismo il medesimo discorso che viene fatto per leone tredicesimo bisogna vedere questo cioè bisogna vedere da un lato cosa è successo a questi a questi pontefici durante la battaglia l'action francese è una cosa perché la dottrina dell'action francese era quel nazionalismo pagano la dottrina di Morras era per il nazionalismo integrale i modernisti hanno cercato di far coincidere il cattolicesimo integrale di Benigni col nazionalismo integrale di Morras anzi per tantissimi anni l'unico testo che girava era quello di Louis Canet di cui ho parlato prima sotto pseudonimo di Fontaine che era un giancenista per accusare gli integristi di essere dei morassiani siccome i morassiani avevano avuto la condanna loro erano condannati una calunnia perché quando sotto Pio X c'erano i morassiani e i cattolici integrali volavano bastonate scintille non la pensavano lo stesso modo tuttavia è vero che chi ha lavorato concretamente contro le son francese sono stati i democratici e i cristiani del Sion si sono vendicati la parte opposta quindi condannati giustamente per il motivo sbagliato allora bisogna fare una netta distinzione tra la dottrina della chiesa dei pontefici la dottrina della chiesa dei pontefici e lì se il pontefici è legittimo è il magistero della chiesa e anche le leggi e la disciplina e noi dobbiamo accettarla in toto e quindi evidentemente quelli che cominciano a criticare a condannare la dottrina l'insegnamento della chiesa eccetera 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 sbaglia chiunque sia il pontefici e chiunque sia il papa anzi sono veramente delle fonti straordinarie di dottrina che noi troviamo in ciascuno dei pontefici anche quelli che hanno minato se invece parliamo della prassi cioè del tipo di governo tenuto dall'uno dall'altro beh non si può però per rispetto alla santa sede e alla chiesa giungere al punto di un concordismo che è contrario ai fatti storici allora invece di prendere gli esempi che mi ha preso lei è certo che ben detto decimo quinto cambiò la politica di più decima la politica non la dottrina la politica di sicuro anche nella prassi contro il modernismo cambiò il problema cambiò tutto e questo fu una tragedia facciamo un esempio della storia antica ma non troppo tre papi che sono venuti uno dietro l'altro Paolo IV Pio IV Pio V San Pio V Pio IV è quello che ha concluso il concilio di Trento lo zio di San Carlo tutti noi i preti abbiamo prestato come il giuramento la professione di fede cristiana promulgata da Pio IV quindi Pio IV ha svolto un ruolo magnifico straordinario nella storia della Chiesa tutto quello che ha promulgato conciliarmente è no è la parola della Chiesa romana che si accetta in tutto però pensare che da un punto di vista invece della contingenza pratica delle cose umane di tutti i giorni abbia continuato esattamente la poetica di Paolo IV e Pio V quella di Pio IV è assolutamente sbagliato tant'è vero che passano il tempo a tagliarsi la testa per dire Pio IV la prima cosa che fece fu di tagliare la testa ai nipoti di Paolo IV di cui uno era un cardinale nel senso beh non è Pio IV in persona che era tagliata il boia sì 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 uno fu strangolato e l'altro non so se ne è capito e quando San Pio V divenne Papa fece tagliare la testa al giudice che Pio IV l'ha messo per far mettere a morte i nipoti di Paolo IV questo è un esempio direi marchiano di un totale cambiamento di politica almeno su un punto pratico su questo non c'è nessuno io spero di non scandalizzare nessuno ma tutte le famiglie hanno delle storie così e quindi c'era anche un motivo c'erano dei motivi non è che si svegliavano e volevano fare una cosa crudele o giusta c'erano dei motivi c'erano delle politiche diverse senza dubbio la linea dei pontificati di Paolo IV e di Pio V fu la migliore a mio modesto parere la coalizzazione di San Pio V direi che lo dimostra certamente fu una linea di riforma della chiesa nei costume e nella disciplina ma soprattutto di contrariare l'eresia grazie all'inquisizione voluta da Paolo IV e da Pio V sarà brutto dirlo scandalizzerà le anime belle ma è stato ciò che ha salvato beh ha salvato è Dio ma lo strumento umano materiale concreto che ha salvato la cristianità la società e la chiesa che è indefettibile ma non sappiamo come si sarebbe ridotta è stata questa scelta senza dubbio e senza dubbio quel pontificato in mezzo non è stato così c'è stato un cambiamento di rotta e la santità di San Carlo è consistita proprio lui nipote di Pio IV a fare tutto perché l'eletto del conclave fosse San Pio V che era la linea opposta grazie a San Carlo grazie a San Carlo che non ha guardato la parentela ma ha guardato alla verità e al bene per la chiesa quindi Pio IV un grandissimo Papa Papa ma le scelte contingenti ci può essere scelte più o meno ci sono papi santi ci sono papi ottimi ci sono papi buoni ci sono papi mediocre ci sono anche papi che la loro dottrina è perfetta le leggi che hanno fatto magnifiche e poi però la prassi può non essere però in questa prassi questo bisogna precisarlo non va mai contro quello che è il fine e il bene della chiesa il fine e il bene della chiesa che assicura quindi che la rivelazione sia proposta integralmente fedelmente i fedeli perché possono compiere l'atto di fede che i sacramenti siano amministrati in tutta la santità e la dignità che la fede sia difesa da tutte le eresie eccetera tutto questo è stato assicurato da tutti i pontifici che sono tali nessuno escluso poi in questo c'è un più o meno ma tutti lo assicurano perché è Cristo che è il capo della chiesa che governa la chiesa assieme a loro loro come strumento come vicario e assieme a loro io sono con voi tutto questo è assicurato l'essenziale chiunque sia il pontefice qualunque sia il suo nome ecco poi nelle scelte concrete e pratiche nelle intenzioni personali eccetera eccetera allora ci sono enormi diversità e queste sono vere allora facendo il peso dell'uno e dell'altro si può arrivare a trovare diciamo un punto in cui si concorda in cui si è d'accordo per cui però anche lì se si parla di un po' quando si vede qualcosa che a nostro umido e modesto parere lo storico può fare una critica ebbene come dire deve essere sempre con rispetto dovuto alla persona e alla funzione questo sì ma per i pontifici più antichi per esempio nella bellissima storia dei papi di Pastor però chiaramente Paolo IV non è visto molto bene io che non sono pastore sono molto più ignorante se l'avessi scritto avevi fatto tutto il contrario l'avrei presentato in maniera diversa anche lì le opinioni sono opinioni ecco due domande però a cena certo a bocca a piedi a bocca a piedi a bocca a piedi come è bello grazie che ci ha spiegato sono quei sergenti che non vieni grazie c'è uno più tecnico di me vediamo domandalo a questo ragazzo un momento non è ero